Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, grazie, vedo che la platea è calda, non a caso. Bene, l'universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni. Buongiorno a tutti. 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 Stella mattutina delle scelera, ed in partum virgo deogravidà. Sempre permanzisti inviolata, Stella mattutina delle scelera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Luca. Grazie Roberto. Grazie a tutti. 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 condigentati. Poco. Ma lui è molto sintetico, va via benissimo. Lui, no, non è come te. Ho sentito un calando, allora dico, partiamo sull'attenzione. E Tonino ha colto subito. Immaginate che io ho conosciuto questi tre vulcani in una sera d'inverno. Una sera d'inverno presso una zona industriale di Iesi. E in quell'occasione io ero venuto a conoscenza, con una sorta di sesto senso, di un sentore, che è uno dei centri più distrutti. E qui introduco il contesto di Pievetorina. Pievetorina con il 93% degli edifici inagibili rappresenta un po' uno dei centri simbolo di questo sisma. Sede di diversi epicentri molto distruttivi che hanno messo in ginocchio la nostra comunità. Avete potuto apprezzare che le uniche attività rimaste sono all'interno di strutture ligne o di container. Questo perché si è azzerato il tessuto connettivo di una fiorente cittadina di montagna. Un posto dove d'estate fa caldo come al mare e d'inverno fa freddo come in montagna. Quindi noi siamo, ci piacciono un po' gli eccessi. Forse ci siamo trovati d'accordo anche sugli estremi, sì. Tutto questo ovviamente per cercare di inquadrare qual è stato il nostro rapporto. In quel momento abbiamo appreso che fra le 18 poi divenute 21 scuole finanziate la nostra che è sede di presidenza che era un importante centro per tutta la zona montana perché da qui dipendono le scuole di Pieve Bovigliana, oggi divenuta Valfornace, Fior di Monte, di Visso e via dicendo, Muccia non era stata inserita fra le scuole da ricostruire e quindi è nato questo progetto su Cisa Virescit. Grazie a loro che mi hanno dato la forza insieme poi all'architetto Petrini, allo studio. E da lì è nata la volontà di provarci. Un progetto che nasce dal basso del crowdfunding. Esatto. Fra la gente. Fra le persone. Abbiamo ricevuto bonifici dei due euro da ragazzini così come bonifici di rilievo importantissimo come quelli che loro sono stati riusciti, sono riusciti a porre in esse. E ce l'abbiamo fatta. Perché all'interno del progetto che abbiamo presentato e che oggi ve ne daranno conto, il 12 settembre inaugureremo questa nuova scuola. Ecco una scuola per rinascere. E allora qui introduco anche un tema di riflessione politica perché io rappresento anche il capofila delle aree interne. E allora in una tendenza, che è quella generale, che viene un po' dall'alto e che si ispira alla logica alfanumerica di razionalizzare gli istituti in funzione del numero dei ragazzini, è un qualcosa che sugli istituti montani non può funzionare. E allora si deve introdurre il tema della qualità. Proprio ieri a Simbolo ho incontrato una persona, una persona illustre e mi ha chiesto ma come mai questo procedimento così particolare? Beh dico è un procedimento al contrario, un procedimento che parte da riportare il servizio nel territorio per far ritornare la popolazione. A differenza di quello che succede tradizionalmente, che si portano i servizi dove si creano dei nuclei importanti di popolazione. Quindi un procedimento per dire abbiamo voglia di ricominciare, abbiamo voglia di ricostruire le nostre comunità dove erano ma come saranno. Ecco questo è l'appello che abbiamo lanciato, è la speranza, l'interazione, la connessione per la costruzione della nuova scuola. Grazie. 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 Grazie Alessandro. Saluto l'onorevole Carrescia che è qua ad ascoltarci. Adesso saluto il Presidente del Consiglio regionale, Antone Mastro Vincenzo. Adesso chiamerei il Presidente del Lanci, Maurizio Mangialardi che è anche Sindaco di Senigallia. Senigallia che insieme ad altri comuni hanno deciso di devolvere la raccolta pro terremoto a questo progetto. Il Comune di Senigallia insieme al Comune di Mondolfo e al Comune di Maiolati Spontini. Maurizio Mangialardi. Buongiorno a tutti, saluto ovviamente Alessandro che direi c'è ormai un rapporto posso dire di amicizia, un legame importante, quel connettere, interagire e costruire forse si trova tanto nel rapporto che si è creato. Saluto il Presidente dell'Assemblea e il nostro parlamentare che mi fa molto piacere che sia qui con noi come sempre. Ci volevo essere, anche se è una giornata complicata e dovrò lasciare subito, a mezzogiorno devo essere di nuovo a Senigallia. Ci volevo essere perché qui c'è tanto di quello che saremo, c'è tanto della prospettiva di questa regione e lo dico anche con grandissimo trasporto, come sindaco della mia città mi accusano che mi occupo troppo con il ruolo di Presidente Anci del terremoto. Ti occupi poco di noi e ti occupi più dell'altro. Io penso che questa regione sia una e tutto quello che è accaduto anche a 150 chilometri dalle altre zone comunque sia un'occasione per dimostrare che le marche, quelle marche al plurale che le esaltiamo sempre per le nostre peculiarità, possano diventare le marche uniche quando si tratta di solidarietà, si tratta di condivisione, si tratta di interconnessione. E allora lo dico, sono qui perché mi trovo a casa sotto il doppio aspetto. Uno perché c'è il legame con Pieve Torina, io ho ancora ospiti nei miei alberghi con cittadini di Pieve Torina ed è nato forse lì il legame per il quale tutti i fondi che il Comune di Senigallia ha raccolti, tutti, tutte le iniziative che sono state fatte nel nostro Comune da privati o dal pubblico sono stati dirottati a questo progetto. Sono qui però perché mi sento anche a casa, perché le aziende che oggi si presentano sono di quella parte del territorio e hanno lavorato per le iniziative del territorio di Senigale e dintorni, ci abbiamo fatto tante cose. E allora oggi vedere queste aziende che, anche grazie a Giuliano, lo possiamo dire Alessandro, sì, grazie Giuliano, che è stato il vero connettore del progetto. Ecco, due aziende presentano il loro bilancio qui perché vogliono dare un segno. Due aziende si sono prodigate perché sanno che quella scuola, come diceva Alessandro, ha un valore molto più importante della struttura, non è il tema del volume, non è il tema della rapidità, è il progetto di salvaguardia di un territorio senza il quale, terremoto o meno, questa regione non ha anima e non ha cuore. E allora ritrovarci qui, e così mi prendo già l'impegno, il 12 settembre tutti insieme ad inaugurare la scuola, ma forse anche dentro un percorso ormai delineato dove la Regione e il Governo si stanno impegnando molto, lo dico, lo stavo dicendo prima, il sottosegretario Boschi ci chiama tutte le settimane, Anci e Governo regionale per fare il punto, per capire come si possono accelerare i processi e soprattutto come dare risposte. Ecco, io quella data lì del 12 penso che possa servire a tutte le marche per tirare una riga, capire che cosa abbiamo fatto, come stiamo superando il più grande disastro della nostra Regione dopo la Seconda Guerra Mondiale, capire qual è la prospettiva e soprattutto capire come la solidarietà, la disponibilità, la fratellanza, l'amicizia e l'amore possono vincere sempre, con il cuore, con la disponibilità e con l'abbraccio. Ecco, l'abbraccio a Pieve Torina è l'abbraccio delle Marche, è l'abbraccio della speranza e l'abbraccio dell'amore. Buona domenica a tutti. Grazie, grazie Maurizio. Grazie, buon rietro. Questa è la dimostrazione che qui c'è cultura non del territorio ma dei territori perché non si appartiene soltanto a uno spicchio di questa Regione, ma si appartiene alla Regione e non soltanto a questa, fra l'altro. A proposito di Regione, chiamerei il Presidente del Consiglio del Giornale, Antonio Mastrovincenzo. Buongiorno a tutti e grazie. Io ringrazio, come l'ha definito il Sindaco, questi tre vulcani perché hanno avuto un'idea brillante e li ringrazio perché oggi qui presentano il loro bilancio sociale in un'iniziativa direi molto particolare e originale nello stesso tempo. Li ringrazio per quello che hanno fatto perché sono persone e imprenditori che fra l'altro sono accomunati da alcune caratteristiche comuni appunto, la grande passione in quello che fanno, la grande capacità di innovazione, la capacità di coinvolgere sempre i loro collaboratori e anche la capacità di guardare oltre le mura della propria azienda e oggi abbiamo la dimostrazione concreta di questo. Hanno avuto la capacità di interconnettere e di interagire con soggetti, associazioni, soggetti privati, associazioni, enti locali e dare questo frutto importante a questa comunità così gravemente colpita. Diceva bene Giuliano all'inizio dalla scuola si riparte per iniziare un percorso di rinascita delle comunità e noi abbiamo l'obbligo di ricostituire le comunità laddove sono andate frantumate da questo terribile sisma. Come Consiglio regionale ci stiamo impegnando anche noi per fare squadra, lo stiamo facendo con due iniziative parallele. Da un lato abbiamo approvato una risoluzione che prevede la stipula di un patto per lo sviluppo nelle prossime settimane, mi auguro, tra tutti i soggetti che sono attori locali, istituzioni, parti sociali che possono dare un contributo e dall'altro abbiamo avviato con le università un percorso di ricerca, ricerca che deve portare alla prospettiva di nuovi sentieri di sviluppo per la nostra comunità e per queste comunità in particolare. Quindi grazie, grazie alla capacità di fare squadra, questa iniziativa è un'iniziativa esemplare. Grazie ancora. Grazie, grazie. Bene. Siamo qua da tante regioni, d'Italia, non soltanto marchigiani evidentemente, perché io penso che qua in qualche modo ci siano un po' le radici di ciascuno. Ci sono persone importanti, straordinarie che vivono con passione il loro territorio, lo amano profondamente tanto che vogliono ritornare ad essere qua e per questo, per esempio, il gruppo Visiva, che è un gruppo di fotografi non professionisti che si sono impegnati in un reportage che vedete adesso riprodotto su questo lato del campo, sono andati a cercare e a fotografare le famiglie, i ragazzi, gli anziani, insomma, che sono adesso negli alberghi, nelle strutture sulla costa e che non bravano altro che tornare qua. Ringraziamo Visiva che ha fatto questo reportage bellissimo, secondo me, e soprattutto importante perché testimonia la voglia di ritornare, la voglia di esserci, non ce ne andiamo. Resistenze, appunto. Questa serie di connessioni sulla scuola ha portato, fra l'altro, a connettere anche la scuola di Piovettorina con altre strutture scolastiche della regione, Iesi, Senigallia, una struttura anche musicale come Martin Music College, che sta facendo un laboratorio che durerà per tutto il prossimo anno di musica in questa scuola. Adesso vorrei chiamare la maestra rappresentante degli insegnanti della scuola di Piovettorina, Federica Micucci, perché non è stato facile sicuramente resistere dentro a una struttura un po' come questa, insomma, dove quando fa caldo è caldissimo, quando piove non si sente niente. E voi l'avete sperimentato. E noi l'abbiamo sperimentato perché ci siamo stati e abbiamo capito come si sta in quel posto. Però le insegnanti insieme alle ragazze hanno resistito, con molta difficoltà, ma... Sì, perché noi pur provenendo da mondi lavorativi distanti, siamo qui con il comune obiettivo di redigere un bilancio. Solo che per chi viene come me dal mondo della scuola questo non è semplice, perché questo è stato un anno scolastico anomalo, complesso e quindi noi la scuola è impregnata, è caratterizzata da quello che voi del mondo dell'economia definite l'intangibile, il capitale umano, che come ben sapete è difficile da contare, ma si può raccontare. E quindi è questo quello che voglio fare io in questo momento, raccontarvi che è stato un anno duro, è stato un anno difficile, complesso, che ci ha messo fortemente alla prova. Ha richiesto grande sacrificio a tutte le parti interessate, quindi parlo per il gruppo delle insegnanti, ma anche i bambini, le famiglie che li hanno sostenuti, personale ATA, personale amministrativo. Il sindaco in tempi celerissimi, a distanza semplicemente di un mese dal forte sisma del 26 ottobre, ha permesso che la scuola ripartisse, ricominciasse. nel miglior modo possibile, ma che non è di certo quello ottimale, perché abbiamo vissuto ecco veramente il freddo, freddo d'inverno e il gran caldo d'estate, perché la confusione, non dovuta ai bambini che sono stati veramente bravi nel sapersi contenere, ma dovuta un po' proprio alla struttura, ecco c'era questo ampliamento di ogni rumore e chi, come Giuliano e come molti altri qui presenti, sono stati a farci visita, hanno visto che era sufficiente una semplice pioggerellina per non riuscire più a sentirsi, a comunicare. Questo terremoto ci ha tolto molto, ci ha tolto in primis le nostre sicurezze, i punti di riferimento, quella stabilità che noi adulti e bambini prima avevamo. La mancanza quindi di punti di riferimento ha creato molto disorientamento e quindi... Ci sono tutti i sentimenti che sono circolati in questo periodo... Ricco di grandi emozioni, quindi ci ha tolto molto anche alla didattica, ma ci ha dato altrettanto, ci ha dato tanto perché se sappiamo interpretare quello che è successo in una chiave positiva, in un'ottica di crescita, di sviluppo, ci accorgiamo che sì, abbiamo ad esempio perso la struttura scolastica, abbiamo perso i nostri materiali scolastici, ma ne sono arrivati altrettanti in dono. Abbiamo momentaneamente vissuto l'allontanamento di alcuni colleghi, di alcuni bambini, ma ne abbiamo conosciuti degli altri, abbiamo imparato ad interagire con nuove figure e poi abbiamo avuto il grande sostegno di chi ci è venuto a trovare, di chi da vicino e da lontano, in presenza o a distanza ha portato il proprio contributo e voi qui siete una lodevole rappresentanza e manifestazione di questo. Grazie. Federica, credo che tu abbia detto in sostanza quello che ci aspettavamo. Allora, è il limite degli insegnanti, del non essere sintetici. Da insegnante che ovviamente, quell'ora di lezione bisogna che la faccia, insomma. Quindi volevo soltanto, chiudo ringraziandovi, perché voi non state dando solo una struttura ai nostri alunni, ma state dando molto altro, perché l'edificio scolastico concorre alla formazione e alla strutturazione della persona e della personalità, con un certo tipo di ambiente sicuro, ben strutturato e di questo ringrazio, vi ringrazio a nome di tutte le persone che rappresento. Siamo noi che ringraziamo voi per la collaborazione e per questa enorme e straordinaria disponibilità. Davvero grazie, davvero grazie. Due parole, scusate, non perché voglio limitare le due parole, ma insomma, per Giorgio Carrescia, è venuto qua a farci visita, io penso che un contropiede. Lui era venuto per ascoltare, però io insomma faccio un po' di provocatore, siccome faccio il connettore stamattina, disperatamente. Grazie, intanto buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie alla Boxmark e alla Paradisi per presentarci questa iniziativa del bilancio sociale qui a Piave Torina, che ha un grande significato. Io mi riconnettevo, uso quei termini, al verbo connettere, che da una parte stare in rete, dall'altra è anche però capire, e io ero qua per capire, per cercare di capire ancora quello che è questo dramma e come possiamo come Parlamento continuare ad agevolare questo percorso che trova in prima linea gli amministratori sindaci, Alessandro lo sa, ho sempre detto e sono convinto che i veri eroi di questo terremoto sono i cittadini e sono gli amministratori. E la trilogia del titolo Interagire e Costruire penso che sia un programma che vale per tutti, non soltanto capire ma mettersi in rete per ricostruire. E dico non ricostruire con lo slogan com'era, dov'era, questo poteva valere per il primo terremoto, ma cambiamolo, ricostruiamo come meglio possibile, come meglio possiamo, come meglio sappiamo fare. Tutti quanti insieme, il pubblico con il privato, l'interazione che possiamo costruire può aiutarci a ricostruire non soltanto gli edifici ma soprattutto la comunità. Gli obiettivi che ci siamo andati, io utilizzo i cinque minuti dell'intervallo, non l'ora della lezione, è quello di ricostruire non soltanto gli edifici ma la comunità, cioè quel tessuto di relazioni che il terremoto ha devastato e che dobbiamo ricostruire lentamente, non saranno più come prima perché il vissuto del sisma, quei traumi che lascia purtroppo, li porteremo, soprattutto chi l'ha subito direttamente se li porterà dietro, però ricostruire quell'ambiente, quelle relazioni, quei rapporti che hanno fatto forte, vivo questo territorio che è il cuore d'Italia, il cuore delle aree interne, il cuore del nostro paese è un obiettivo da parte mia, da parte del Parlamento, del Governo, come prima ha detto anche il Presidente del Lancia e il Sindaco, c'è tutto il nostro sostegno, noi continueremo a farlo. Complimenti per questa iniziativa e l'augurio che il 12 settembre possiamo essere qui a festeggiare tutti insieme. È una certezza, grazie. Il 12 settembre faceva parte del progetto, non è una data aggiunta. Leggo questo messaggio, ho letto con frutto spirituale il testo pubblicato su Next di aprile 2017. Sono lieto e incoraggio il progetto di ripartire dalla scuola per ricostruire la città e non sono comunque certo, e ne sono comunque certo, che il Comune di Piero Vettorinale trarrà vera speranza. Cordialmente, Cardinale Edoardo Menichelli. Adesso, Nazareno Petrini, abbiamo parlato della scuola, della struttura, ma io penso che c'è una bellezza etica che va oltre l'estetica. C'è anche la curva lui, non è cosa da poco. C'è una bellezza etica che va oltre quella estetica, che poi è estetica, è una combinazione fra le due. Adesso io non mi metto a spiegare tutto il progetto. No, non devi spiegare il progetto anche perché non ci abbiamo tempo, Nello, scusa, non te lo volevo dire. Non voglio essere un piatto. Esatto. Si è conciso forse, veramente. Poi arriveremo. Sì, il problema è che questi nostri amici, oltre che essere amici, sono anche nostri clienti. E quindi noi sono praticamente delle nostre vittime, in qualche modo. E anche un po' di rompiscato. Io mi ricordo che nel primo studio che ci avevamo, avevamo attaccato su un manifesto dove c'era scritto che il grande Rothschild avrebbe detto che ci sono tre modi per andare in fallimento. Il primo era quello, le donne, il fumo, i vizi e l'architetto. Uno dei vizi era l'architetto. Dicevi che i primi due sono più piacevoli, il terzo è più sicuro. Quindi è il suo risultato. Quindi loro ci stanno venendo un po' dietro ultimamente e credo che, insomma, non so se fate proprio bene su questa faccenda. Però ho visto che le amicizie pericolose ce le avete tante, ce le avete quelle di Giuliano. Quindi speriamo bene che loro continuino su questa strada. Noi abbiamo, ci hanno interpellato per vedere, siccome avevamo fatto noi nel nostro studio oramai diverse esperienze sull'edilizia scolastica, e in virtù del fatto che eravamo amici e ci eravamo incrociati anche sul mondo professionale, una sera ci hanno chiamato per vedere se era possibile fare, se eravamo disposti a fare questo intervento, una progettazione per questo edificio scolastico a Pieve Torina. E gli ho detto subito sì, ci siamo visti alla sera e poi abbiamo fatto un incontro per venire a Pieve Torina e parlare con il sindaco. Siamo arrivati qui che il giorno che nevicava c'era mezzo metro di neve, per cui il lotto non l'abbiamo visto, il sindaco mi faceva vedere un progetto di una scuola che gli era stata proposta, una scuola provvisoria, e ha detto, il sindaco diceva io una scuola come questa non la voglio, io voglio fare una scuola seria, sul serio, no perché questa non fosse una scuola seria, era una scuola precaria, provvisoria. E quindi diceva facciamo un progetto come si deve, vediamo un po', e allora ci siamo interloquidi con il sindaco, abbiamo visto il posto, abbiamo ragionato un po' sul progetto e abbiamo iniziato a fare un progetto come in teoria si dovrebbe fare, cioè il committente che cerca di capire dove sta, quello che vuole, quello che non si deve fare, quello che si può fare. Abbiamo fatto questa soluzione, l'abbiamo tirata fuori, l'abbiamo presentata alla scuola e poi ci siamo relazionati con il commissario che era delegato all'organizzazione che è complesso poi magari forse il rappresentante di Eiffel Ducci forse lo spiegherà meglio, come è organizzata la donazione che è arrivata a 1.400.000 euro circa, mancano 100.000 euro grosso modo. Noi praticamente abbiamo realizzato una scuola secondo il decreto ministeriale, quindi con tutti i parametri normali richiesti, abbiamo fatto la sezione della scuola media, quindi le tre aule più i servizi e le cinque aule della scuola elementare più i servizi e un'altra parte che non è finanziata, che attualmente non è in fase di esecuzione, che sarebbe quella della palestra che dovrebbe fungere anche da centro civico, perché il primo punto era che la collocazione dell'edificio stesse un po' al centro del paese e poi dopo lo vediamo dove è stata ubicata, dove è stata prevista. Quindi abbiamo cercato di mettere in piedi un progetto che va un po' al di là dell'emergenza, abbiamo pensato che questo fosse un progetto perché riteniamo che sia fondamentale che nella progettazione della ricostruzione si possa vedere qualcosa più a lungo, potrebbe essere una grande occasione. Fatte salve le prime le emergenze che vanno comunque affrontate in un'altra maniera. Quando si parla di ricostruire non bisogna più parlare di ricostruire dove era, com'era, perché questa è una cosa che non ha senso. Mi viene in mente anche un dibattito che era uscito ultimamente su alcuni architetti che finalmente iniziano a interpretare la cosa in maniera diversa e si rifletteva su alcuni esempi di ricostruzione del terremoto che sono diventati punti di vista di aggregazione e di visita. Mi riferisco per esempio a Noto, Noto nel 1700-1600 qualcosa, è stata demolita da un terremoto, è stata ricostruita tutta col barocco e tutti andiamo a vedere la ricostruzione del barocco perché Noto è famosa e in questo momento tutti vanno a vedere per questo motivo. Questo non è successo per Gibellina, Gibellina è stata ricostruita in tutta sicurezza con le strade larghe 20 metri, con i prospetti delle case dei due piani e per cui come diceva Francesco Venezia le ombre sono scomparse nel sud della Sicilia, l'ombra è fondamentale perché fai 20 metri al sole e diventi matto. Per cui la ricostruzione va presa come anche una grande occasione per riqualificare gli spazi che ci sono e che sono importanti. Quindi sicuramente bisogna fare presto, bisogna essere precisi, bisogna essere puntuali ed è difficile perché le procedure sono complesse, una procedura pubblica poi è ancora più complessa, in questo caso è una procedura agevolata perché dopo lo spiegherà appunto il rappresentante delle misericordie c'è una specie di delega a un ente che diventa il donatore e quindi praticamente si bypassa un po' tutte le procedure, essendo i soldi queste donazioni non rientrano nella procedura dell'appalto pubblico. È importante che si faccia bene più che si faccia in fretta, non possiamo fare un'occasione unica e per 10 giorni, un mese ribaltare la faccenda perché io credo che sia, per carità, non voglio aprire le finestre ai passi, però credo che questo sia assolutamente da dire. Noi abbiamo fatto questo progetto definiti, questo progetto preliminare l'architettonico l'abbiamo dato, adesso ci stiamo interloquendo un po' con la ditta che sta realizzando gli esecutivi, c'è un ottimo rapporto di scambio, abbiamo mantenuto la direzione artistica del progetto per cercare di comunque, siccome ci abbiamo messo la faccia di tirare fuori l'edificio che viene fuori deve essere più o meno quello che abbiamo pensato. questo adesso l'avrei ribadito io, l'avrei ribadito io, eventualmente le parcelli, siccome sto facendo un progetto per Tonino, un altro per Sandro, eventualmente riscarichi su di loro. Vi ringrazio dell'attenzione, mi sarebbe piaciuto fare una chiacchierata ancora più lunga ma capisco che bisogna finirla. Grazie, grazie. Nazareno Petrini e Raffaele Solustri che è qua, hanno donato il progetto insomma, insieme a tutto lo studio, se l'abbiamo citato in altre occasioni e anche se è un ex, dei grandi davvero, dei grandi davvero. Saluto anche il sindaco di Corinaldo che è qua con noi e adesso passiamo. Fredducci, non lo vedo, ma... Oh eccola, scusa, ci avevi... Vabbè, d'accordo. Nicola, Nicola Fredducci dell'Associazione Nazionale delle Misericordie d'Italia che è, diciamo, il responsabile tecnico e committente, committente ufficiale del progetto della scuola. Grazie dell'inviso, ecco, perché quello che rappresento qua come Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia è un ruolo molto complesso, un po' come ha accennato l'architetto Petrini. Rappresento un po' il soggetto attuatore, ecco, che è nominato anche dal commissario Errani e anche dal Dipartimento per attuare e farsi carico dei finanziamenti che finora sono giunti a noi e li abbiamo raccolti su un conto dedicato per poi attuare la ricostruzione della scuola. Quindi il nostro ruolo è quello di essere la committente dei lavori, di tutelare i finanziatori che contribuiscono al progetto e di fare in modo che il progetto architettonico donato dallo studio Petrini possa essere concretizzato in un esecutivo e quindi realizzato su un progetto definitivo. Ecco, ci tengo a precisare che questo è un progetto molto complesso. Rischia di essere, dico rischia perché vedremo le tempistiche che sono estremamente strette, probabilmente il primo progetto definitivo di ricostruzione realizzato post-sisma e questo è stato grazie al fatto che, diciamo, essendo noi soggetto attuatore, un soggetto privato, ci facciamo carico di tutte quelle che sono le responsabilità di appaltare i lavori a una ditta privata, della scelta, di seguire i lavori e fare in modo che venga rispettata la normativa per tutelare i finanziatori qui presenti ma anche il comune stesso e la comunità di Piavetorina in modo tale che venga garantito un prodotto fatto bene. Per questo il nostro è prettamente un servizio, immaginiamo questo. Ecco, ci sostituiamo, se vogliamo, in modo totalmente naturale, ecco, in modo legale. Però devo dire anche che Nicola con una sua associazione ha raccolto ulteriori fondi e quindi non è soltanto un attuatore ma è anche un donatore. Grazie. Gli altri donatori adesso le diciamo. In questo caso, sì, sono un po', ecco, il soggetto attuatore vuol dire che ricevo e rappresento anche tutti i soggetti, anche voi stessi, anche soggetti finanziatori di fronte al comune, alla comunità. Sarà quello che donerà alla comunità, alla scuola sostanzialmente. I misericordi hanno questo ruolo di essere i proprietari di casa della scuola e poi verrà donata, una volta verificato, che sarà rispettata tutto, i collaudi statici, ecco, i collaudi normativi. Chi sono i finanziatori? Permettevo di tutelarli e quindi devo anche rappresentarli e citarli chiaramente. Hauser, che ha messo praticamente, ha finanziato la scuola per 125.000 euro. Enel Cuore, Enel, per 550.000 euro. La famiglia Bezos, cioè i genitori del fondatore di Amazon, la fondazione della famiglia Bezos per 280.000 euro e il signor Diego Piacentini, la famiglia Piacentini, per 50.000 euro e anche noi misericordi. E su Cisovir Eschit con circa 250.000 euro. Oltre i presenti. Grazie ancora, ci rivedremo qui chiaramente al giorno dell'inaugurazione. Vi garantiremo e faremo di tutto e faremo salti mortali per garantirvi un grandissimo successo. Grazie Nicola, grazie. Grazie. Adesso i bilanci. Così dimostriamo che si può parlare di numeri anche senza farli vedere. È una cosa incredibile. Però Ilaria Gasparri per Paradisi e per Dovere di Cavalleria. Grazie, buongiorno a tutti. Abbiamo dei tempi, come abbiamo detto un po' tutti, quindi cerchiamo di esserci dentro, l'abbiamo già detto, ma siamo convinti che ci riusciamo. Benissimo. Allora, buongiorno a tutti. Io ho un compito importante che è quello di presentarvi il bilancio della ditta Paradisi, dell'azienda Paradisi SRL di Iesi e raccontarvi un po' chi è anche questa azienda. Intanto, da due anni, questa azienda ha deciso di essere Benefit e vi spiegherò che cosa significa. Intanto, abbiamo voluto leggere il bilancio 2016 di un'azienda Benefit pensando come i numeri di bilancio ci possano raccontare come un'azienda è capace di costruire, connettere e interagire. Ma prima di tutto, come vi dicevo, prima di leggere un bilancio bisogna capire di chi stiamo parlando. Parliamo di un'azienda che ha questo oggetto sociale, quindi i cui soci si sono dati un obiettivo e l'obiettivo è di produrre componentistica tornita di precisione e accessori, cioè una torneria che ha come principali clienti il settore dell'elettrodomestico e dell'automotive. Ma ha deciso che oltre a questo core business e quindi creare profitto in questo settore di business, vuole anche, e lo dice nel suo oggetto sociale, nello svolgimento della propria attività perseguire specifiche finalità di beneficio comune che favoriscono la diffusione della cultura d'impresa responsabile e sostenibile per agevolare una crescita economica e sociale di tutto il territorio e della comunità. Quindi questa azienda dal 2016 si è data questo proposito e adesso vediamo come il bilancio, che la normativa ci obbliga a fare un po' diverso rispetto a quello standard, perché ci dice bene ma se tu vuoi perseguire tutto questo beneficio che va al di là dei numeri, tu me lo devi raccontare, mi devi rendi contare, perché tu hai una responsabilità sociale e per questo motivo il bilancio della Paradisi oltre di conto economico e stato patrimoniale si compone di una relazione descrittiva che racconta che cosa ha fatto e che cosa vorrà fare, quindi proiettata al futuro. Ma cominciamo con i numeri. Primo aspetto, costruire. Come si può leggere un bilancio dal punto di vista della costruzione di valore? Sicuramente l'azienda è oggi quello che ha costruito nel suo passato e quindi vediamo questi numeri. Sicuramente la costruzione passa, la costruzione di valore passa attraverso un buon rapporto con i clienti, che per la Paradisi rappresentano il vertice nel simbolo della Paradisi, perché il cliente è sempre il punto ultimo, il punto nodale di un'azienda e questo è normale, è colui che ti dà la possibilità di stare sul mercato. E come vedete il valore della produzione di questa azienda negli anni, negli ultimi tre anni che abbiamo preso a riferimento, è cresciuto. Dal 2015 al 2016 c'è stata una crescita di oltre il 13% arrivando a un valore della produzione di oltre 7 milioni di euro. Costruire significa non solo avere rapporto con i clienti e consolidarlo, ma significa anche avere buone performance, perché stare sul mercato significa avere dei buoni numeri. E la Paradisi, scegliendo noi come indicatore l'ultimo numero del conto economico, che è quello che si guarda da subito per vedere come va un'azienda, si va subito a leggere l'ultimo numero, rappresenta un utile che è in crescita, addirittura rispetto all'anno precedente di oltre il 130%. Ovviamente l'applauso non è per me, ma è per la Paradisi. Allora, in questo percorso di costruzione l'azienda per costruire valore deve costruire il proprio patrimonio. Vedremo come il patrimonio di un'azienda è un valore complesso, che i numeri limitano estremamente, ma se volessimo rappresentarlo con un numero il patrimonio dell'azienda è il suo patrimonio netto. E l'azienda negli anni lo ha incrementato perché ha deciso, i suoi soci hanno deciso di non distribuire risorse, ma di lasciarle in azienda per poter continuare ad investire. Altro tema, come lo leggiamo dal bilancio, la connessione. Si parla molto in questo periodo di connessione, o meglio di interconnessione. Tantissime leggi ci parlano di interconnessione nell'azienda 4.0. Perché? Perché fondamentalmente per potersi sviluppare è necessario creare legami, creare interconnessioni tra le persone, tra gli strumenti, tra le varie risorse che l'azienda ha a disposizione. E creare interconnessione significa quindi nella catena di valore cercare di far parlare, interloquire in maniera coerente tutti coloro che sono all'interno del sistema e farli convergere verso un obiettivo comune. E soprattutto cercare di far parlare clienti, fornitori, dipendenti e macchinari. Adesso andremo a vedere che cosa significa. Perché per poter dare al cliente e crescere in termini di fatturato è importante avere buone relazioni con i fornitori, ma soprattutto guardarsi all'interno e creare interconnessione tra le risorse produttive più importanti, che sono i dipendenti. I quali utilizzano poi gli investimenti e quindi i macchinari. Ed ecco che l'interconnessione l'abbiamo letta come capacità di motivare le risorse umane. La Paradisi ne fa una politica importante di motivazione della risorsa umana, che è il vero capitale intangibile, il vero patrimonio dell'azienda. E lo fa attraverso un programma di incentivi che è da anni che è in piedi. Legando premi di produzione al ROS, cioè alle vendite, è un indicatore sulle vendite, alle non conformità di produzione, alla produttività, ai resi e all'assenteismo. Ma non solo, si sta impegnando anche nel rendere l'ambiente di lavoro più confortevole. Perché ovviamente attraverso la motivazione passa anche una maggiore produttività, una maggiore capacità di creare interconnessione. E quindi l'acquisto di macchinari di ultima generazione, la sostituzione anche di macchinari che utilizzano sostanze nocive e attività che favoriscono la miglior coniugazione tra vita lavorativa e familiare come accordi per gli asili nido. Sempre sul capitale umano. La formazione è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché ovviamente è il capitale umano che è formato, è in grado di poter massimizzare gli investimenti che l'azienda fa ogni anno in macchinari. Perché è un'azienda, non dimentichiamocelo, del settore della metalmeccanica. E quindi è un'azienda che investe molto in torni, in macchine pesanti. Ma queste macchine possono essere all'avanguardia dal punto di vista della tecnologia industria 4.0, ma sono nulla se le persone che le utilizzano poi non sono in grado di poterle utilizzare. E quindi come vedete la formazione è sempre in incremento, sia nelle ore di formazione pro capite e prodipendente che nel totale delle ore di formazione. Così come vi faccio notare che l'azienda ha incrementato anche due unità, due persone. Quindi ecco, un'azienda che sta crescendo non solo nel fatturato ma anche nelle persone che impiega. E ritorniamo a quel rapporto virtuoso che ci deve essere con gli interlocutori strategici, clienti e fornitori. Perché bisogna accorciare la filiera di valore. Accorciarla significa anche utilizzare strumenti quali la digitalizzazione che permettono all'azienda di essere sempre in comunicazione, in interconnessione con il cliente e il fornitore. Perché l'azienda non vende solo un prodotto, vende anche un servizio. Perché vendere il prodotto è una produzione di massa che molte altre aziende possono essere in grado di imparare e fare, magari fare anche con minor costi. ma essere capaci di far capire al cliente che c'è un valore in più. C'è qualcosa in più oltre quel prodotto. E ad esempio la Paradisi ha scelto con alcuni fornitori strategici, soprattutto di materie prime, di accorciare questo percorso scegliendoli come fornitori strategici e scegliendo insieme il percorso per poter approvvigionarsi di queste materie attraverso una gestione del magazzino che ha permesso all'azienda di abbassare notevolmente, anzi addirittura direi minimizzare i costi relativi alle giacenze fisiche nel magazzino. Come abbiamo letto nell'oggetto sociale c'è questa volontà di far crescere l'azienda in un territorio che cresce e la crescita passa attraverso il sostenimento dell'economia locale. Come lo fa la Paradisi? Lo fa ad esempio scegliendo dei fornitori con i quali si ha un rapporto, si ha un rapporto personale del territorio e come vedete i fornitori strategici per oltre il 90% sono scelti nella regione Marche. Passiamo all'ultimo punto, interagire. L'interazione è il fine ultimo perché l'interazione fa sì che l'azienda sia riconosciuta nel territorio, cresca nel territorio e il territorio stesso le permetta di crescere in uno sviluppo sostenibile. Che cosa ha fatto la Paradisi? Non nel 2016 ma in un percorso, negli anni, perché l'interazione non nasce in un anno, nasce da un rapporto pluriennale di anni di serietà e di comportamenti improntati alla sostenibilità. Ha partecipato alla crescita culturale del territorio, organizzando degli eventi che raccontassero che cosa fa l'azienda ma anche degli interventi o eventi culturali di cui si è fatta partnership o si è fatta promotrice. Qui ne indico alcuni ma nel bilancio integrato troverete in maniera compiuta la descrizione e che oggi insomma non abbiamo tempo di vedere approfonditamente. Interagire e favorire quindi uno sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile significa prendere dal territorio perché un'azienda per poter produrre prende dal territorio, quindi sicuramente utilizza delle risorse, le trasforma ma deve provare a farlo ridando qualcosa al territorio e per quanto riguarda l'utilizzo delle energie che un'azienda metalmeccanica è una voce importante delle sue risorse, ha nel 2016 raggiunto l'obiettivo di utilizzare fonti esclusivamente rinnovabili, quindi le macchine della Paradisi funzionano tramite energia rinnovabile e questo è il bollino che ha ricevuto a testimonianza di quello che è riuscito ad ottenere. Interagire non è solo essere parte del cambiamento ed essere anche il motore, questa è un po' l'ambizione, l'ambizione che la Paradisi ha declinato nel suo statuto quando ha detto io non solo voglio essere una torneria ma voglio essere una torneria che vive nel suo territorio e quel territorio lo aiuta a crescere, ma questa è stata una sua declaratoria. Poi ha scelto di iniziare un percorso di certificazione internazionale che l'ha portata ad ottenere una certificazione che si chiama B Corp, Benefit Corporation, istituto americano che certifica, il quale ha messo nero su bianco, è vero, secondo quello che tu mi hai raccontato, quello che tu hai fatto io certifico che tu effettivamente ti stai muovendo non solo come un'azienda for profit che è il primo obiettivo ma anche nel fare profit, nell'essere un'azienda sostenibile. Che cosa vuol fare questa azienda nel futuro? Detto quello che sta facendo e che ha fatto finora e concludo. Vuole continuare questo percorso, un percorso di costruzione, costruzione del suo valore che poi si esplica nel territorio attraverso la formazione, la formazione in primis delle proprie risorse umane, del proprio capitale umano, quindi del proprio patrimonio intangibile, continuando a fare investimenti e continuando a spingere nella ricerca e nello sviluppo. Vuole creare interconnessione, cioè continuare in questa catena del valore con clienti, fornitori, con il territorio e interagire. Interagire significa diffondere la cultura d'impresa sul territorio e forse oggi è un primo atto di questa dimostrazione. Non il primo, è uno dei tanti atti ma secondo me oggi lo sta dimostrando perché sceglie di presentare il suo bilancio con un amico che fa tutt'altro come attività, ma per vedere che il territorio e gli imprenditori, le persone possono creare una rete che ha gli stessi obiettivi, la stessa mission in definitiva. Quindi le imprese che possono in qualche modo essere motore di un cambiamento e di un'integrazione del territorio e di un'interazione. Vi lascio augurandovi una buona lettura di quello che è il report integrato della relazione sul beneficio comune in modo che possiate conoscere al meglio questi numeri che abbiamo solo dato in maniera veloce per farvi capire che cosa fa l'azienda. Buona giornata. Grazie, grazie Ilaria. Io solitamente tutte le sere non mi addormento se non leggo un po' del bilancio di Box Marche e Tonino Domenico. Assolutamente, la sera soltanto quello lì. È battuta, è battuta. Scusate ma ognuno ha i suoi gusti, ciascuno ciascuno. Io mi addormento così, altrimenti... Cesare Tommassetti per il bilancio della Box Marche Living Company Report 2016. Siete in tre, fantastico. Cioè, ma il tempo è sempre lo stesso. comunque... No, no, ce la facciamo. Grazie, grazie a tutti. Ci siamo? Puoi metterti seduto qui, prego. Poi c'è un altro che è rimasto ma poi lo recuperiamo. Già, già fatto, già fatto. Ci siamo? Tanti amici? Dovete sapere, questo è fuori tempo, dovete sapere che quando qualcuno 15 anni fa mi ha chiamato per chiedere di fare un bilancio sociale, io in realtà non ne avevo mai fatti. Era uno di quelli convinti che le aziende dovessero fare profitti, l'obiettivo fosse quello di crescere. Mi hanno chiesto questo bilancio sociale, un'azienda, dico Rinaldo, dico, ma io non so farlo. Però conoscevo una bellissima collega che si era appena specializzata in etica d'impresa. E allora dico, ma vuoi vedere che lei con il professor Zamagni? Ecco, quindi... E allora dico, quasi quasi la coinvolgo, non è stato difficile coinvolgerla nel bilancio sociale, è stato un po' più difficile coinvolgerla per tutta la vita, però oggi è mia moglie e questi sono i miei figli. Quindi il primo successo di questo progetto, Tonino, eh no, eh no, eh no, ecco, ecco, devo premere il pulsante destro? Bene, io non vorrei dare i numeri, non vorrei dare i numeri, vorrei fare, vorrei trasmettere alcuni messaggi. È una premessa a quello che poi ci unisce oggi. Ci dicono le recenti ricerche che nei prossimi 20 anni il 50% dei lavoratori potrebbe essere sostituito da macchine e software. C'è un programma anche molto impegnativo, Industri 4.0 è stato citato, dei grossi incentivi per andare verso delle aziende che possibilmente producano più redditi e magari, oppure per altri, sarà semplicemente una questione di sopravvivenza, doversi aggiornare tecnologicamente. Del resto le macchine fanno funzioni sempre più complesse, automatizzate, precise, sono più efficienti. Invece, come sapete, gli esseri umani qualche volta sono complicati da gestire, ci sono dei momenti di crisi e quindi la strada è questa? È questa la strada, è questa l'azienda che vogliamo? È questa? Poi a pranzo la raccontiamo questa. L'azienda che vogliamo non è questa. E Box Marche e Paradisi sono la dimostrazione concreta, che la tecnologia più importante sono le persone e se vogliamo delle aziende che continuano ad essere umane, io vorrei condividere la ricetta di Box Marche e anche di Paradisi. Primo punto, le aziende devono essere impegnate a creare bellezza, perché le macchine non sono in grado di farlo e quindi il futuro dell'uomo è quello di impegnarsi sotto questo profilo. Un po' di tempo fa, la bellezza si identifica con la verità e con il bene, però siccome è passato molto tempo da questa definizione ho provato a chiederlo a loro due, ho detto ma secondo voi cos'è la bellezza? Allora Matteo molto rapidamente mi dice, per me la bellezza è il gol di Mandzukic nella finale con il Real. E questa è l'idea di bellezza, ok? E so che questo sentimento è condiviso. Poi l'ho chiesto a Davide che è un po' più grande, quindi la sua filosofia è già un po' più raffinata, quindi lui si è trovato di fronte all'indecisione tra tre oggetti di bellezza, la tartaruga terrestre, l'axelot che è un pesce stranissimo da capacità straordinarie e il camaleonte tricorno. Quindi vedete che se parliamo di bellezza possiamo spaziare in tanti ambiti, per un'azienda coltivare la bellezza significa proteggere il proprio patrimonio, quello che ha fatto diventare noi italiani così speciali anche nei confronti del resto del mondo. Chi vive in Italia si nutre di bellezza, cresce con la bellezza negli occhi e è capace di fare cose straordinarie che il resto del mondo ci invidia. Le aziende possono impegnarsi anche sotto questo profilo tutelando l'arte e tutelando questo patrimonio come le nostre aziende hanno imparato a fare nel corso degli anni, non sono solo immagini del 2016, queste sono molte attività che Boxmark ha supportato e sta ancora supportando con questo valore profondo, fare bellezza, proteggere la bellezza, proteggere questo patrimonio che ci aiuta a conservare delle aziende umane. E veniamo al secondo messaggio. La maggior parte delle economie mondiali si basa ancora sul concetto di animal spirits, quello che un economista inglese di più di 200 anni fa traduceva nel fare ognuno il proprio interesse per raggiungere il bene della collettività, questo significa, implica, comporta una crescita e una crescita che ci si auspica che debba essere continua, quindi nel tempo ripetuta, competitiva quindi come guadagnare posizioni nei confronti delle altre aziende dello stesso settore e una crescita che generi profitto. Ma questo modello è superato, le aziende devono preoccuparsi oggi di una crescita responsabile, una crescita responsabile che significa abbinare al valore economico il valore sociale dell'impresa perché, come diceva Ilaria, l'impresa prende dal suo territorio, l'impresa lo ha fatto fino ad oggi gratuitamente, le risorse naturali, quello che ci dà la natura, l'ambiente e oggi l'impresa deve capire che deve restituire, restituire al territorio. Restituire al territorio significa impegnarsi nei confronti dei propri stakeholder, questa è 14 anni che la proiettiamo Tonino, però è sempre attuale, è sempre attuale perché non ci sono solo i clienti, non ci sono i fornitori, ma ci sono prima di tutto le persone, ma c'è l'ambiente, c'è la comunità locale, ma oggi stiamo dimostrando che non è solo la comunità circostante dell'azienda, si può andare oltre e andare oltre significa conservare queste umanità dell'azienda. E qui faccio un grandissimo ringraziamento al professor Lanzone che ha fatto una prefazione al report integrato di quest'anno, poi mi auguro potremo ascoltarlo, il professor Lanzone ha fatto una bellissima prefazione che per me è stata ispiratrice di tutte le cose che vi sto dicendo oggi. Il professor Lanzone parla nella sua prefazione, che vi invito veramente a leggere, del capitale paziente, il capitale che sa aspettare e io l'ho tradotto un po' come la nostra slow economy. C'è lo slow food che non è solo il mangiare lentamente ma il gustarsi, quello che c'è dietro e dentro all'azienda. La slow economy non è solo la crescita lenta che è stata tanto lo sporacchio degli ultimi quasi dieci anni, ma è anche l'attenzione per il territorio, l'ambiente, le persone, che Boxmark poi sigilla con le sue certificazioni di tipo sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, la certificazione in materia alimentare e in materia ambientale, quindi l'utilizzo di materie prime da fonti rinnovabili, l'utilizzo di materie prime che hanno un basso impatto nell'ambiente. tutti i sigilli a quello che preesiste alla volontà di certificarsi, la certificazione potrebbe anche non esserci, è la filosofia che c'è dietro, la filosofia che poi l'azienda vuole allargare accogliendo ad esempio le scolaresche nel giornale del riciclo aperto, quindi seminare anche nei bambini, nelle scuole questa cultura di attenzione particolare verso l'ambiente. E poi l'ultimo messaggio, poi i numeri magari se li leggono, oppure qualcosina possiamo dire, qualche numero? C'è un'oretta ancora? L'ultimo messaggio, l'ultimo messaggio, se vogliamo delle aziende umane, le aziende devono impegnarsi a realizzare sogni, pensare oltre, andare oltre il necessario, essere qui non era richiesto da nessuna norma, non era richiesto da nessun interesse economico, questa è la storia dei nostri 15 anni che parte dal bilancio 2003 presentato in un luogo simbolico perché il comune di Corrinaldo, quindi anche una condivisione con la collettività e poi i vari argomenti che ci hanno portato all'affrontare tanti temi, a condividere emozioni, seminare amore, seminare speranza, fino ai giorni nostri. nella convinzione che seminando in questo modo abbiamo delle prove concrete che è possibile raccogliere bene, c'è sempre un bel raccolto quando si semina bene e quindi abbiamo anche raccolto, poi il girasole può piacere o non piacere ma poi significa avere l'attenzione per le nuove generazioni, le borse di studio ai figli dei dipendenti, il premio per la creatività che significa poi pensare alla grande, cioè dare la possibilità di sviluppare e riconoscere questi aspetti, la solidarietà che quest'anno è partita con questa rappresentazione teatrale, il progetto di Succisa Virescit che ora ci vede qui significa trasformare quella che tutte le persone, quello che tutti noi abbiamo dentro, l'empatia e l'altruismo, tutti ce l'abbiamo dentro, però bisogna trasformarla in azione e quindi l'azienda ci può aiutare, dobbiamo essere un po' formiche e un po' pulci perché questi animali nel loro essere minuscoli forse come noi nelle nostre piccole economie hanno dei poteri straordinari, se avessimo forse una formica riusciremmo a sollevare 20 volte il nostro peso, se fossimo una pulce riusciremo a saltare più in alto dell'Empire State Building e volando così in alto, guardando così lontano abbiamo la possibilità di realizzare i nostri sogni. Adesso presentiamo i numeri, due minuti per i numeri perché i numeri sono veramente positivi, questo è il nostro report nelle sue varie sezioni, la sezione del bilancio, la sezione di sostenibilità, la sezione di analisi del capitale intellettuale, andiamo velocissimi, i miei numeri sono molto positivi. È un'azienda che come abbiamo detto ama una crescita lenta, ma questa crescita lenta viene fatta creando valore, il valore aggiunto prodotto è cresciuto quest'anno del 24%, perché puntiamo sempre, da sempre l'attenzione sul valore aggiunto, perché il valore aggiunto va per il 55% alle persone, vedete quella fetta verde, la più grande, quella è la quota del valore aggiunto che va alle persone, se cresce il valore aggiunto crescono anche le persone, il valore aggiunto è diverso dal profitto e le persone si fanno crescere anche con la formazione, più di 8.000 ore di formazione erogate negli ultimi anni, più si lavora e meno formazione si fa, quando c'è meno lavoro si fa più formazione, quindi vedete che l'ultimo anno si è lavorato molto e la formazione delle persone va di pari passo con gli investimenti in nuove tecnologie che non sono sostitutive delle persone, ma servono alle persone per produrre di più, per realizzare meglio e in modo più efficiente e potenziare le loro competenze, 6 milioni di investimenti in tre anni, quindi in tre anni investito in macchinari il 60% del fatturato aziendale e naturalmente a parità di personale 0 ore di cassa integrazione. Bravi, bravi, è importante quando si investe non far crescere troppo i debiti, vedete sopra gli investimenti che crescono, l'ultimo anno è sempre da questa parte, ma l'indebitamento bancario è rimasto costante, poi vedremo l'anno prossimo col pagamento e arriviamo, oneri finanziari sul fatturato, considerate che un'azienda in salute può avere fino al 3% di interessi passivi rispetto al fatturato, qui siamo poco sopra lo 0,5, quindi un sesto del minimo indispensabile per considerare un'azienda in salute, quindi molto molto bene anche questo indicatore. Questi sono gli indicatori finanziari che ci dico che l'azienda è andata bene anche sotto il profilo della redditività e poi arriviamo all'ultima riga che diceva Ilaria, il risultato di esercizio, ma quest'anno è stato stratosferico, vedete che differenza tra il 2015 e il 2016, più 583%, ma non era basso l'anno scorso, perché non era basso l'anno scorso? Perché siccome io vi ho insegnato a guardare dentro i numeri, bisogna chiedersi come mai l'azienda in un anno ha fatto questo salto e il motivo, i commercialisti lo leggono molto rapidamente dalla nota integrativa, l'azienda quest'anno ha investito in un nuovo macchinario e ha realizzato una plusvalenza dalla cessione del vecchio. Voi dite allora ci piace un po' di meno questo risultato di esercizio, soprattutto le banche, no? Però mi ha dato anche uno spunto per dire che se io ho realizzato una plusvalenza dalla vendita di un macchinario usato, vuol dire che negli anni precedenti lo avevo ammortizzato troppo, quindi vuol dire che i risultati di bilancio dei cinque anni precedenti erano migliori di quelli che io vi ho raccontato qui e nelle varie sedi. Quindi è vero che il risultato 2016 è un po' più basso, quindi passiamo da qui a qui, però se spalmiamo questa differenza sui cinque anni precedenti, la differenza relativa alla plusvalenza sul macchinario, al netto della minusvalenza sull'altro, vedete che miglioriamo anche i risultati degli anni precedenti, quindi vuol dire che non erano andate così male le cose in precedenza. Ok, e quindi poi gli indici di redditità sui quali vado molto velocemente per lasciarvi con un messaggio che mi sembra molto adatto a questa sede che produrre ricchezza è importante, ma è veramente ricco chi dona molto. Grazie, 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 grazie Cesare, Davide e Matteo, ma Davide e Matteo, fatemi vedere, il pensiero profondo, ciao grazie, il futuro anche, esatto. Adesso abbiamo cinque ospite scelti di grande spessore, scelti, diciamo così, per mescolare argomenti e competenze, uno shaker di conoscenze che secondo noi è importantissimo ascoltare e con i quali confrontarsi, oltretutto sono talmente bravi che a me mi tolgono anche qualche problema, diciamo così, di connessione, perché così faccio soltanto un lancio se ce la faccio e poi sono capace di andare da soli tranquillissimamente. Io chiamo qua, sulle cinque poltroncine della Boxmark, Osvaldo Danzi, che è specialista in selezione risorse umane, fondatore di Fior di Risorse. Benvenuto. Marco Bentivogli, segretario, il microfono c'era dietro, Marco Bentivogli, grazie, segretario generale della Fimcist nazionale e poi Andrea Loreni, funambolo e filosofo teoretico, poi si capirà perché. Abbiamo anche lui, Giovanni Lanzone, professor Giovanni Lanzone, che è coordinatore giornalista e coordinatore, nonché fondatore della fondazione Italia Patria della Bellezza, appunto. Massimiliano Colombi, sociologo, amico di lunga data. Lui c'ha anche fan già predisposti. e io inizierei così con Osvaldo Danzi. So che avevi messo insieme un po' di idee su alcune connessioni fra personaggi diversi. Possiamo andare tranquillamente. Vai dove vuoi, non c'è Vabbè, abbiamo detto 15 minuti ciascuno, ma insomma, poi, insomma, con tutta tranquillità e libertà, insomma. E io lanciavo in questa maniera, cioè che la connessione nasce dalle affinità che si misurano quando non hai bisogno di dare spiegazioni. Sì, a volte bisogna dare le spiegazioni, però. D'accordo, però le connessioni, diciamo così, che attraversano i sentimenti, i valori e l'empatia, diciamo così, fra le persone, forse è così. Beh, allora, intanto la cosa più difficile è essere il primo degli stranieri qui, e soprattutto essere presentato in questo modo. No, qui nessuno è straniero, qui nessuno è straniero. Per esempio di spessore, non so a cosa ti riferissi, ma insomma, va bene. Allora, io so fare una cosa, faccio selezione del personale per le aziende, quindi mi occupo di risorse umane e sono qui dall'inizio, ero dietro e ho ascoltato tutti e mi ero preparato una piccola presentazione con qualche immagine, però devo dire che chi è venuto prima di me ha detto delle cose che sono state veramente molto belle, parlando di risorse umane, cioè parlando di quello che è il mio mestiere e che non era il loro, però sembra che qui dentro si respiri veramente un'aria da, io li chiamo umane risorse, intanto da quando Giuliano è iniziato, che ha dato subito a questo verbo connettere un'importanza strategica per un posto come questo oggi, che è quello di creare relazioni. Parliamoci chiaro, le Marche non sono mai state una regione così attenta alla rete, è una delle cose veramente più difficili che in questo territorio si riesca a fare, soprattutto in occasioni come questa del terremoto, con la mia associazione abbiamo cercato veramente in maniera quasi disperata di riuscire a affiancare un progetto importante come questo di Pieve Torina, siamo andati a parlare con gli agricoltori, siamo andati a parlare con gli allevatori, siamo andati a parlare con le associazioni, abbiamo trovato veramente uno scollamento incredibile. Ecco, vedere oggi un progetto come questo, partire dal basso, partire perché ci sono relazioni, perché c'è reputazione, cioè Tonino e Sandro hanno una reputazione creata proprio da anni di nodi, di accortezza nel trattare con le persone e riuscire a tirare in ballo delle somme e così tante persone per un progetto così unico secondo me significa sapere ascoltare prima di tutto, significa davvero sapere ascoltare. Io mi sono segnato quello che avete detto perché praticamente mi sono rifatto quasi una presentazione. L'altra cosa che, sempre a proposito dell'ascolto, guarda caso, è quello che diceva un po' l'architetto prima, cioè l'importanza di ripartire senza guardarsi indietro, cioè non rifare le cose nello stesso modo con cui si erano fatte prima, il che non vuol dire non ascoltare quello che è la nostra storia, che poi è una delle cose più belle che l'Italia ha. La storia ci insegna tantissime cose, però nel momento in cui si fa un punto zero e si riparte, guardando avanti e non guardando indietro, fa notevolmente la differenza. E credo che quello che sia veramente la croce di questo progetto, il nodo di questo progetto è partire da una scuola, per due motivi. Io mi occupo di lavoro, io cerco lavoro per le persone, cerco lavoratori per le aziende. La scuola è il punto da cui tutto questo parte. Lo è nel momento in cui un posto come questo decide di ripartire non da un monumento o da un negozio, ma decide di ripartire da quel posto dove si insegna ai ragazzi fin da subito uno a fare rete. Cioè senza una scuola non c'è un posto dove le persone, dove i bambini fin da piccolo si incontrino e imparino le loro differenze, imparino a interagire fra di loro, imparino l'educazione, cioè come ci si pone di fronte agli altri, a non essere dei selvatici. Ma soprattutto si insegna loro cosa sarà domani quando usciranno da quella scuola. Per cui questo progetto ancora di più secondo me ha questa importanza. E poi le risorse umane viste come motore, qualcuno ha detto, e non come una parte. Cioè riuscire a essere quelli che danno la spinta e danno il movimento. Io devo dire questo, sono qui non perché sono stato invitato, io mi sono quasi proposto, proprio sono sincero, io quando ho ricevuto l'email da Alessia vedendo insieme per la prima volta questo momento qui che gli altri anni avevo visto soltanto singolarmente. Poi con Tonino e con Sandro abbiamo fatto tantissime cose insieme e li ho sempre visti come una coppia. Di fatto, di fatto una coppia. Simon e Garfunkel, Lennon, McCartney, Romina, Albano, Tonino e Sandro. Fate voi. Però ecco, devo dire che la prima cosa che mi è venuta in mente è stato mandargli due righe e dirgli ma vi va se vengo a dire due cose sulle coppie così diverse che sanno fare la differenza partendo dai rocker, partendo da... non mi hanno neanche risposto in realtà. ad un certo punto io ho trovato il mio nome scritto sull'invito e quindi ho detto va bene, allora gli è piaciuta. Si è bloccata. Però ecco, non sono uno di quelli che viene invitato in queste cose. Mi è proprio piaciuto esserci perché mi piaceva il modo, quindi la connessione che si era creata nel presentare questa cosa, la relazione che prima di tutto trasmetteva questo evento e poi il tipo di progetto. Il tipo di progetto che io azzardo anche a dire un'altra cosa, ne ho visti tre di progetti veramente belli nelle Marche per il terremoto. Ora Tolto Risorgi Marche che è bello perché è artistico, quindi è anche giusto che un personaggio del territorio che ha una grande importanza si sbatta un po' per questo territorio e quindi Neri Marcorea ha fatto questa cosa molto bella. Io ero avvisso 15 giorni fa qui a 20 km per tutti agibili per un giorno e lo nomino perché per una volta anche quello è stato un evento partito dal basso dove persone si sono messe a disposizione di altre persone, non con donazioni, non con soldi, ma con il loro modo di essere, di esserci, dandosi per persone che avevano bisogno del commercialista di turno, del coach di turno, di qualcuno che li facesse ripartire. Ecco, io trovo tutto questo molto simile, cioè le connessioni fanno veramente la differenza nelle ripartenze. Grazie. Riguardo alle Marche che non si manifestano in maniera molto evidente, ricordo uno slogan fatto per una località turistica che dice, l'avevo fatto io, scusate, ma insomma autocitazione ogni tanto ci sta. Ricordo per caso, se ci avete scoperto non ditelo a nessuno, che è una delle forme di promozioni più straordinarie. Va bene, io con il Gioe Marco Bentivogli, al quale mi lega anche a una storia di famiglia, con affetto Marco, ti domanderei per prima cosa è perché Fim Cisle decide di dare un premio a quel signore là, a Paradisi, giusto appunto poco tempo fa, il primo maggio, poi qua vicino a Muccia. Innanzitutto ci sono diversi modi di fare il sindacato e i sindacalisti, siete tutti abituati a vedere il sindacalista che punta il dito su ciò che non va, che quando le persone sono nei guai gli racconta che sono nei guai, una bella soddisfazione per le persone che perdono il lavoro, sapere che hanno perso il lavoro e soprattutto con la magra consolazione di indicargli qualche nemico a buon prezzo. Noi come Fim dentro la Cisle abbiamo deciso di fare qualcos'altro e cioè di fare il sindacato della buona notizia. Faccio una parentesi, se qui oggi invece che parlare di rigenerazione del territorio e di responsabilità sociale si fosse organizzata la contestazione a qualche istituzione non riusciremo a tenere i giornalisti dentro questa sala perché sono tutti a caccia di una polemica quotidiana per cui tutta la gente che punta il dito col politico di turno che è responsabile di qualcosa nel polemificio che però quel giorno dopo è finito. Non è che l'oggetto della polemica viene risolto, è così, anche queste aree del terremoto, avete visto quando Salvini è arrivato qui, ha avuto la scena di tutti i giornali e le tv, poi nessuno ha ricordato a Salvini che il giorno che doveva essere in votazione in Parlamento Europeo sugli aiuti al terremoto era assente, era a Mantua a volantinare in un mercato e noi abbiamo deciso di fare tutt'altro, di premiare e di valorizzare le cose che si riescono a fare e per cui abbiamo deciso insieme a Leonardo Becchetti a Next Nuova Economia, voi vi ricordate anni fa il sindacato boicottava le imprese che si comportavano male con i lavoratori, noi abbiamo deciso invece di premiare le aziende che proprio in condizioni difficili non usano le condizioni di difficoltà come uno sconto, come un alibi per avere uno sconto sulla sostenibilità ambientale, sociale, ma ne fanno un'occasione di primazia sulla sostenibilità, sul rispetto dei lavoratori e sul rispetto e la restituzione come veniva detto in questi due bellissimi bilanci sociali al territorio e abbiamo capito che coltivare le buone cose di questo paese che sono tantissime contagia, è vero che anche la cattiva notizia contagia, ma anche la buona vi assicuro contagia e abbiamo deciso, un po' anche con qualche incomprensione massimiliano anche nel mondo sindacale, che il primo maggio, accanto al primo maggio classico, il comizio bla bla bla, noi premiamo delle aziende, lo scorso anno abbiamo premiato 10 aziende a Giuliano, Aversa, Casal di Principe, vi assicuro lì occasioni per fare sconti su legalità di ambiente sono tutte giustificate, lo Stato non c'è per davvero e qualche volta devi avere paura dello Stato che si presenta davanti all'impresa. E lo stesso qui a Muccia, abbiamo premiato alcune aziende, tra cui quella di Sandro Paradisi, perché rappresentano la modalità di fare impresa che noi apprezziamo, perché nella nostra identità l'idea della solidarietà non è solo un aspetto che fa bene al cuore, a quanto sono solidale aiuto, quello che viene fuori da questi due bilanci è rivoluzionario e cioè la solidarietà, la sostenibilità come elementi che fanno andare meglio l'impresa, curare i rapporti con le organizzazioni sindacali, quando sono soprattutto organizzazioni sindacali vere che stanno tra i lavoratori e non nei talk e nelle ideologie di qualche secolo fa, è un valore anche dal punto di vista economico, per cui anche i vostri revisori che presentavano queste cose dimostrano che l'attenzione alle persone ha questa grande capacità positiva di contaminazione e di contagio e anche scegliere dei luoghi, dei luoghi diversi ha un significato, noi cerchiamo di farlo molto come organizzazione sindacale, di solito i bilanci si cerca l'albergo più bello per presentarlo, quello con più lusso, dove si sta meglio, c'è l'aria fresca, ecco il fatto di averlo realizzato qui resterà, sarà un aspetto che non passerà così nel timeline di ogni anno, ma sarà un aspetto che resterà, noi abbiamo visto che come sindacato siamo molto indietro e per questo abbiamo voluto essere anche di rottura, perché anche il sindacato ha bisogno di un profondo cambiamento, io ci ho scritto un libro proprio su questo. Tu c'è una voce fuori dal coro. Sì, speriamo sempre meno fuori dal coro, non me ne vanto di essere fuori dal coro, però spero di contagiare anche questo perché dobbiamo recuperare un rapporto con le persone, appunto con i mondi vitali e il fatto che la spiegazione che i due vostri commercialisti hanno spiegato del bilancio può essere assolutamente da lezione a tanti bla 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 sulla responsabilità sociale che facciamo anche dentro il sindacato, si può dire, io lo dico perché lo penso assolutamente con fermezza e quello che sta accadendo è che ci stanno scavalcando anche soggetti lontani da noi, i fondi finanziari, BlackRock che se io immagino al periodo pre-crisi BlackRock è l'esempio della finanza speculativa peggiore. Il fatto che BlackRock nei suoi finanziamenti inizi a capire come la gran parte di fondi finanziari che la sostenibilità è anche un valore di solidità dell'impresa e questa è una vera e propria rivoluzione. Allora noi vogliamo essere da questa parte del mondo e abbiamo scelto questa cosa un po' strana, si chiama cash mob, voto col portafoglio e cioè non me ne volgano i politici presenti che anzi sono in gamba perché se sono qui vuol dire che sono di quelli che hanno fatto il passo in avanti verso questi mondi vitali, ma come cittadini, lavoratori, consumatori noi votiamo molto più spesso che alle elezioni, noi votiamo ogni volta che consumiamo, proviamo a immaginare se tutte le volte invece di penalizzare alcuni prodotti e servizi iniziassimo a scegliere a orientare il mercato con le nostre scelte di consumo, non è solo il consumo critico dire no la Nestlé non va bene eccetera eccetera, anche perché la stessa Nestlé se vedete le classifiche di Oxfam proprio per questi movimenti internazionali di voto col portafoglio ha dovuto fare i conti con il lavoro minorile, con la distruzione dell'agricoltura che è stata fatta, se tutte le volte che noi consumiamo iniziamo a premiare le aziende che rispettano la dignità dei lavoratori e rispettano l'ambiente, come ci dice sempre Becchetti, il mercato diventiamo noi, gli stakeholder del mercato che orientano rispetto a chi distrugge l'ambiente, non rispetta vi assicuro che Paradisi e Dominici non sono in una larghissima compagnia, 15 giorni fa a Bergamo un'impresa appena ha saputo che una ragazza è andata in maternità, l'ha licenziata, 235 lavoratori all'unisono sono usciti fuori dall'impresa perché per fortuna, viva Dio, tra i metalmeccanici ancora si considera che certi diritti non toccano un singolo ma toccano una civiltà e allora noi dobbiamo essere sempre più forti a rendere consapevoli le persone, il fatto che Samsung e LG, due produttori coreani, tutti quanti abbiamo prodotti Samsung e LG, televisori, telefonini, lavatrici e così via, abbiano sostenuto la presidentessa coreana perché promulgasse, sostenuta anche economicamente, perché promulgasse delle leggi liberticide che il mio collega coreano è in galera per cinque anni per aver organizzato uno sciopero contro Samsung, allora probabilmente bisogna dire sì Samsung fai dei buoni prodotti ma fino a quando non rispetti i lavoratori e la loro libertà di organizzarsi, io il tuo televisore non lo acquisterò più, io acquisterò un prodotto che mi garantisce che le libertà sindacali, il rispetto dell'ambiente sono un elemento non laterale da convegnistica, sono un elemento che è dentro la missione industriale, cioè dentro la missione industriale bisogna non distruggere, io mi occupo nel settore della metallomeccanica anche di industria pesante, ecco solo in Italia spesso l'industria pesante è un nemico dell'ambiente, nel resto del mondo ormai in Italia cosa accade? L'ILVA è il luogo della contrapposizione tra chi sostiene l'ambiente e chi sostiene l'impresa, ma perché a pochi chilometri dall'Italia all'Inns c'è un'impresa come l'ILVA che è vicino al centro della città in cui gli amministratori locali non si sono schierati o con l'ambiente o con la produzione, hanno trovato la strada per conciliare i due obiettivi, ecco io credo che la politica appunto vada misurata su questo tipo di possibilità non premiando l'ambientalismo quello un po' sciocco è l'industrialismo ottocentesco che considera un pezzo da pagare il mancato rispetto della dignità dei lavoratori e un po' di inquinamento e poi se si vedrà più avanti se questo fa male alle persone. Ecco noi possiamo veramente, io dicevo ci sarebbero stati migliaia di giornalisti oggi qui a parlare di una contestazione, in realtà coltivare questo tipo di speranze come è stato fatto con l'iniziativa di oggi io credo che sarà molto importante, come diciamo noi generativo, sarà una possibilità di far gemmare tante cose fatte con queste caratteristiche. Grazie. I nostri sono semi piccoli che speriamo che facciano crescere delle piante molto grandi e robuste, sicuramente come dicevi tu è più facile oggi chiamare come diceva un giornalista qua durante una serata a Pieve Torina, chiamare sangue, quindi mettere in evidenza il peggio della situazione purché se potesse fare notizia e qui le notizie che sono più positive fanno fatica a uscire. Adesso io facciamo un salto, no un salto no, scusa l'ho detto, me l'ero preparata ma l'ho detto un po' male, comunque vabbè. Andrea Loreni è un funambolo, ma non un funambolo, è il funambolo, perché è un recordman internazionale, ha camminato sopra i territori e nei cieli di tantissime città in tutto il mondo, si sta preparando adesso per fare un'esperienza straordinaria che è supportata anche da Paradisi. Grazie, grazie. La leggo perché insomma il giapponese non mi è familiare, che lui cammina su un cavo che unisce due punti, in questo caso ad agosto camminerà su un cavo che attraversa il lago del tempio Sogenji. Sogenji. Ho dimostrato che non era il mio forte. Perfetto. Good show. C'è un'altra che dice, dov'è questo lago? È a Okayama. Perfetto. È un andato. Perfetto. In Giappone, su due e una la media è buona. Andrea Loreni cosa fa? Con un cavo unisce due punti. Questi due punti sono sembrati insomma essere questi due signori qua, queste due aziende. Fra l'altro, in un attimo posso fare un piccolo salto. I ragazzi di Box Market di Paradisi. Ma vi fate vedere. Faccio questo piccolo salto. Sono tutti connessi perché si sono mescolati tutti. Questo proprio per rappresentare la connessione fra le due aziende. E questi ragazzi, chiamo ragazzi anche qualcuno che forse, insomma, c'è la mia età, lo dico per sostenermi, hanno offerto giornate del proprio lavoro al progetto Succiso a vi Reshit. Questo per dimostrare che poi alcune buone notizie, alcune buone intenzioni, soprattutto alcune buone azioni, possono e diventano contagiose. Andrea Loreni, questi due punti, no? Grazie a Paradisi e a Tonino che sono qua oggi perché hanno sostenuto il crowdfunding, quindi una produzione dal basso che mi permetterà non solo di andare in Giappone ma anche spero poi di realizzare il documentario per cui è stato fatto il crowdfunding sulle strade che mi hanno portato in Giappone. E no, ancora non ci siamo. Adesso no, è pronto. È pronto? Ok, allora vai. Grazie. Grazie a tutti. 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 250 metri a 160 di altezza in inclinato. Questa qua era alta 160 metri, ma era lunga 60, inclinata. La più lunga è stata 250. Per le mie vertigini già hai filmato, basta. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi inspiro, chiudo la mano, lascio che l'aria esca, lascio che la mano si apra. Grazie a tutti. la spalla, il collo, la spalla, il collo, il collo, il collo, il collo, gli addominali. Proprio il minimo indispensabile per chiudere la mano mentre ispiro. E poi, con i pochi muscoli usati, lasciamo che si rilassino nella fase di ispirazione. Ok, nella prossima fase di ispirazione chiudiamo la mano con un pochino più di forza. e poi nuovamente lasciamo che si apra. ora, nel momento in cui abbiamo la mano chiusa e i polmoni pieni, ci fermiamo un attimino lì, un secondo in più, in questa fase di polmoni pieni, è una piccola apnea e poi riprendiamo naturalmente a respirare lasciando che l'aria esca e che la mano si apra. Quindi inspiro, chiudo la mano, lassù a polmoni pieni, resto un attimo lassù, faccio uscire l'aria, lascio che la mano si apra. Quindi, nella prossima fase di ispirazione, quando abbiamo completamente svuotato i polmoni e abbiamo la mano aperta, ci fermiamo anche un secondo in più, laggiù in fondo, a vedere in quel punto, con i polmoni vuoti e la mano aperta, cosa c'è. Inspiro, chiudo la mano, a polmoni pieni trattengo un attimo, poi faccio uscire l'aria, lascio che la mano si apra. Quando i polmoni sono vuoti, quando la mano è aperta, sto un secondo in più laggiù e poi lascio che l'aria rientri e riprendo il ciclo. Ripetiamo ancora tre volte il ciclo completo, poi quando avete finito, piano piano aprite gli occhi, che io vedo quando siamo tutti ritornati qua. Ok, chi non ha ancora aperto gli occhi, io lo considero addormentato e vado avanti. Allora, perché per me è molto importante questo esercizio, è molto simbolico? Perché la mano chiusa è una mano che trattiene, dopodiché la si può aprire per lasciare andare ciò che c'era. E nel momento in cui si lascia andare ciò che c'era, la mano è aperta e pronta ad accogliere quello che sarà. E penso che in una relazione, come in una mia camminata sul cabo, perché la relazione sia fruttuosa, sia vera, in qualche modo dobbiamo lasciare andare quello che c'era per vedere quello che ci viene offerto dall'alterità, dall'altro con cui entriamo in connessione. Io quando cammino sul cabo devo, in partenza, lasciare andare quello che c'era, cioè il passato con tutti i pensieri, dubbi e cose, e accettare quello che verrà sul cabo. E in questa accettazione, in questo diventare vuoto per vedere cosa ci offre l'altro con cui entriamo in connessione, c'è anche un momento molto spaventoso, perché in qualche modo è una piccola morte, dobbiamo rinunciare a quello che eravamo, ma questa rinuncia ci permette un arricchimento, perché nel momento in cui io entro nell'azione e accolgo quello che mi può dare l'altro, il mio essere si è accresciuto, non è più quello di prima, il mio primo io è morto, ma è qualcosa di molto più ricco adesso. E sul cabo tante volte c'è la paura. Beh, sono anche diventato, che non è una grande scoperta, però l'ho conquistato, un uomo che ha paura. Ho accettato, ho aperto la mano alla paura che ho sul cabo, e sono diventato anche qualcosa di in più, anche nei lati negativi. Sono diventato anche un uomo, poi dopo ho anche capito che sono un uomo che si arrabbia, questo devo ancora spiegarlo bene come il valore di questa cosa a mia moglie, però per me è stato già un valore, no? E quindi nel ringraziare chi mi ha ospitato qua, io oggi spero di essere abbastanza umile, di aver fatto respiro abbastanza profondo, di aver lasciato uscire tutta l'aria per accettare quello che mi viene dato, quello che in questa relazione, in questa connessione con la Paradisi e con la box Marche posso ricevere. Perché apparentemente siamo molto lontani, un funambolo, due aziende, ma in verità non siamo così lontani, anche perché il primo contatto che è avvenuto, si è parlato di equilibrio dinamico, equilibrio dinamico che non è un materia solo di funamboli, ma è materia anche di aziende, però io posso parlare del mio equilibrio dinamico, che sul cavo si declina in questo modo, l'equilibrio per il funambolo è quasi un momento magico che ogni tanto c'è, ma per la maggior parte del tempo si tratta di gestire il disequilibrio, cioè di stare in una condizione di ricerca, stare in una condizione anche rischiosa, anche da cui a volte si vorrebbe fuggire, però l'accettare la paura, l'accettare il rischio, l'accettare la possibilità anche di sbagliare, mi permette di stare sul cavo. E mi permette, nello specifico per esempio, di avere in una zona di comfort all'inizio, quando sono dritto sul cavo, ok, 90 gradi, facile, ci sto. Poi sono 85 gradi perché mi muovo. Allora 85 gradi all'inizio era critica, era una cosa che non conoscevo, e la mente mi avrebbe detto, guarda che lascia perdere una zona che non conosci, è meglio che scendi o che non ci provi neanche, naturalmente all'inizio il cavo è basso, quindi è facile scendere. Se invece si sta lì, se invece si sta anche negli 85 gradi che all'inizio mettono in crisi, piano piano diventano conosciuti quegli 85 gradi, allora io sono a mio agio 90, sono a mio agio 85 e piano piano sposto il limite, perché poi da 85 passo a 80 e diventa conosciuto un pezzettino in più, e allora mi sposto, esco un po' dalla mia zona di comfort e un po' alla volta mi ampio, conosco qualcos'altro, rendo mio, mi metto a mio agio anche in condizioni sempre più critiche. Ma questa è la ricerca, cosa che fanno benissimo anche queste due aziende, che sanno uscire dalla zona di comfort, sanno uscire dagli schemi tradizionali, di cui ho sentito parlare con molta gioia oggi, la possibilità di fare qualcosa in un altro modo, e se è rischioso, e se non lo conosco, e se non so come va, comunque non importa, perché lì c'è la mia strada, la vostra strada. E quindi appunto questa ricerca che accomuna me e loro. E durante questa ricerca, durante questa fase di gestione del disequilibrio, capitano sul cavo dei momenti magici di equilibrio, in cui io sono immobile, eppure sono in ogni luogo, perché è saltata completamente la divisione di ogni luogo, perché non c'è più una divisione tra le parti. La connessione che io creo col cavo è solo evidenziare a quel punto, una connessione che non avevo visto prima. scopro quella connessione nel senso di ricollegare, di unire, rendere uno ciò che la mente aveva diviso. Per esempio mi è venuto, mi ha fatto molto piacere sentire parlare della possibilità di unire profitto e impegno sociale, profitto e qualità di lavoro. È una divisione che ci siamo in qualche modo creati noi, ma che state dimostrando che è assolutamente una divisione fittizia, che può benissimo essere superata, che tanti opposti, anzi quasi tutti, sono semplicemente sconnessi perché non li abbiamo interpretati così o perché li abbiamo sempre visti così. E in questi momenti magici di equilibrio che ci si danno anche in tutta la vita, e sicuramente voi li avete visti, abbiamo capito che c'è tutto, che tutto è unito, che le connessioni sono sempre solo esistenti, si tratta di vederle, di cercarle e trovarle. E che quindi la disgrazia che è capitata qua non è una disgrazia che non mi riguarda perché io sto a Torino, riguarda tutti noi. E la possibilità che loro hanno dato ai ragazzi delle scuole qua non è una possibilità che non mi riguarda perché tanto io non verrò a scuola qua. È una possibilità che stanno dando a tutti noi. E personalmente mi sento proprio di ringraziarvi per la possibilità che ci state dando. Grazie. Grazie. Grazie Andrea. Mi sembra che si sia costruito un ambiente di equilibrio stamattina. Giovanni Lanzone. Giovanni Lanzone è il fondatore, coordinatore della fondazione Italia Patria della Bellezza che è un patrimonio aggiunto per quanto ne capisca io. Lui scrive la bellezza e si ricollega a quello che stavi dicendo te poco fa la bellezza non è fare le cose come si sono sempre fatte è il rispetto per chi fa bene ma è anche il sostegno per chi inventa il modo sempre nuovo di coniugare la bellezza con il futuro. c'è un mare di cose. Ma sì, io intanto devo grazie è un piacere essere qui e devo ringraziare questo rapporto che è nato in un bar di Milano con Giuliano e Tonino come dire io ho già scritto delle cose che loro hanno voluto pubblicare sui bilanci e quindi non ridirò le cose che ho scritto vorrei prendere spunto da questa bellissima iniziativa per aggiungere qualche cosa. Vedete, quando ho cominciato il mio personale percorso dentro alle piccole e medie imprese italiane era il 2008 quindi non tanti anni fa mi ricordo che sono andato ad intervistare abbiamo fatto un libro abbastanza bello con fotografie e interviste sono andato ad intervistare un'azienda del Polesines sta a Rovigo si chiama Irsap e fa radiatori è un'azienda molto interessante per tanti aspetti primo perché è l'unica medio-grande azienda del Polesino terra sconfinata la vera Pia Dura qui neanche le miglia è una vera Pia Dura quella è la vera Pia Dura perché lì non si distingue facilmente tra terra e cielo in certi momenti e loro hanno questa azienda sono tre fratelli che l'hanno presa in mano dopo la morte del padre ed è un'azienda che fa radiatori intanto che cosa dice questa azienda? dice che noi non esportiamo borsette, magliette non esportiamo solo scarpette borsette e magliette per fortuna nostra e della nostra economia esportiamo macchine componenti di macchine esportiamo tantissime macchine perché avendo sempre fatto il bello da 500 anni abbiamo a poco a poco costruito anche le macchine che servono per fare il bello quindi la meccanica è una parte essenziale del nostro modo da essere pensate che noi esportiamo 25 miliardi di meccanica la metà del nostro fatturato di esportazione quindi intanto Irsap è una fabbrica che fa caloriferi e naturalmente un'altra cosa che dice Irsap è che quando il design entra come un funambolo in certi mondi li sovverte completamente perché ha questa capacità di far girare le cose in modo tutto diverso voi vi ricordate i lavandini della vostra prima infanzia che erano sostanzialmente di due tipi ideal standard e pozziginori o prendevate l'uno o prendevate l'altro adesso potete scegliere tra un'offerta impressionante potete avere di vetro di legno piccolo grande profondo questo è il miracolo della creatività del design in cui noi italiani siamo straordinariamente bravi ma perché vi racconto Irsap perché era il 2008 voi quegli anni ve li ricordate insomma e uno dei titolari mi disse sì noi facevamo sempre il Natale con gli impiegati poi nel 2009 abbiamo capito che dovevo farlo con tutti e sai mettere 600 persone sotto un capannone non è un'impresa facile ce l'abbiamo fatta è stata una festa straordinaria chi ha portato il complesso del fratello chi ha portato le paste cioè è stata una cosa veramente importante importante per l'azienda e importante per tutti noi intanto voglio dire che ci sono delle parole che stanno passando per esempio impiegati è una parola che non si usa più qui salutiamo in un attimo il grande poeta degli impiegati che è morto giusto due giorni fa che è Paolo Villaggio lui non era una maschera come dicono i giornali lui raccontava le cose vere cioè quella realtà lui era un antropologo la realtà che lui raccontava è la realtà di un'Italia che ormai sta come dire in profondo cambiamento ma che era un'Italia vera e quindi come dire adesso si ha la tendenza a essere tutti insieme ad essere connessi ad essere insieme noi italiani abbiamo questo un po' elemento di limite che sappiamo farlo nelle grandi occasioni simboliche io ho visto anche le foto del Natale il Natale oppure i figli che oppure nelle grandi disgrazie questa è la nostra profonda capacità è la ragione vera per cui noi siamo qui la ragione importante Mettivogli diceva se fossimo stati in un altro ambiente in un altro clima saremmo stati in un bell'alberghetto ecosostenibile sulla riva del mare no invece siamo qui e questo è il primo valore rilevante di questo tema che mette insieme connettere e costruire non solo ma voglio dire anche un'altra cosa perché poi mi porta all'ultimo ragionamento che è la maglietta di Giuliano allora come dire siamo qui e siamo insieme due aziende guardate che anche questo non è comune perché gli imprenditori italiani traggono dalla loro profonda individualità anche il senso della loro creatività quindi come dire essere qua in questa zona come dire distrutta dal terremoto dove più del 90% dei casi sono inagibili ed essere in due imprese io questo lo trovo un tratto veramente formidabile vengo e concludo rifai vedere la maglietta vengo e concludo è così vengo e concludo a quello il problema è che noi dobbiamo rendere questa nostra propensione quotidiana che dobbiamo renderla una capacità che si realizza tutti i giorni e guardate quella maglietta lì è il punto più difficile saremo aiutati anche dal fatto che ci avviamo a vivere anni non semplici e quindi come dire quando nel mondo e nella produzione ci sono cose non facili è meglio stare insieme meglio stare insieme meglio stare uniti perché come dire uniti si è più sicuri che cosa intendo dire quando dico che ci avviamo a danni non semplici intendo dire che il mondo è nella transizione che vedrete il Papa dice che siamo sull'orlo della terza guerra mondiale a pezzi e dobbiamo ascoltarlo perché è un uomo che ha grande saggezza allora questo vuol dire che in un mondo così i mercati sono molto complessi ma noi dobbiamo cercare e provare a smettere di seguire le solite piste l'Europa un po' di Stati Uniti ci sono mercati enormi che hanno bisogno delle nostre competenze a cui semplicemente da soli non riusciamo ad arrivare quindi bisogna anche qui studiare il modo di arrivarci insieme l'ultima cosa per cui dobbiamo ragionare molto sono le tecnologie allora McKinsey bisogna non crederci per definizione cioè McKinsey le spara sempre grosse e non bisogna crederci però io voglio invece dirvi che quel segnale lì va in qualche modo ascoltato io ho parlato due giorni fa con Andres Andres è un bravo imprenditore milanese che ha fatto dentro a Confindustria un comparto nuovo che si chiama Meccatronica tra l'altro un imprenditore straordinario un po' come voi per fortuna in Italia ce ne sono diversi di imprenditori come voi lui ha fatto uno spettacolo che ha presentato al Piccolo Teatro di Milano sulle macchine sulla bellezza delle macchine e sul perché le nostre macchine sono belle e perché questo è un fattore competitivo gli ho domandato ma dimmi che cosa pensi lui mi ha detto guarda Giovanni quel che penso è che ci sarà un recupero compensativo cioè l'ingresso delle nuove macchine farà sì come diceva come dire il bilancio dei paradisi che alcune nuove persone verranno assunte per seguire le nuove macchine dopodiché più in là non riesco a vedere so che come dire l'evoluzione della tecnologia è imprevedibile però io voglio darvi un minimo di indizio guardate queste macchine a guida automatica arriveranno perché il traffico è un algoritmo facile è più facile dell'algoritmo di un tornio quindi a poco a poco mettendo insieme come dire invenzioni che avvengono in diversi campini a poco a poco arriveranno e stiamo parlando dei camionisti dei taxisti stiamo parlando dei vigili stiamo parlando dei casellanti quindi cosa succederà non è facile capirlo probabilmente dovremo tutti insieme ridare valori ai mestieri che non sono sostituibili cioè non ci vedo un robot a fare quel che fa lui ma ce ne sono tanti altri come dire dall'orticultore alla babysitter probabilmente dovremo ridare valori ai mestieri che non sono sostituibili ma è certo che questa vicenda della tecnologia dovremmo studarla attentamente per evitare che ci passi addosso allora grazie per essere qui vi ho detto cose molto semplici ma la cosa più importante è che queste cose che andranno a definire il nostro futuro noi le costruiamo insieme le guardiamo insieme e che adesso troviamo delle risposte insieme per quanto riguarda l'Italia vi dico niente perché è un algoritmo troppo difficile per dire qualcosa bellissimo grazie Giovanni grazie Giovanni davvero interessate Massimiliano Colombi la presentazione l'avete in mano è anche sociologo del centro di ricerca di Milano e professore di sociologia all'istituto teologico marchigiano io volevo così agganciare ma poi non so se faccio la cosa giusta o meno ma con le parole che il Papa ha detto durante il recente incontro all'Ilva di Genova sul ruolo degli imprenditori lui dice non c'è buona economia senza buoni imprenditori il vero imprenditore conosce il lavoro prima di tutto conosce i suoi lavoratori perché lavora accanto a loro condivide le fatiche dei lavoratori e le gioie del lavoro di risolvere insieme i problemi di creare qualcosa insieme non so se è un lancio che ti interessa io ci ho provato e poi cambialo come credo sei capace di fare qualsiasi cosa beh intanto grazie diciamo che l'introduzione mi aiuta a fare un esame che cosa porto a casa allora provo a rispondere a questa domanda e la citazione del Papa ci dice una cosa non è vero quello che sembra a volte proprio vero cioè che non ci sono buoni imprenditori che tutti gli imprenditori sono ladri che i sindacalisti rovinano il mondo che i politici sono tutti incapaci i lavoratori tutti fanno nulloni le associazioni di volontariato si fanno i fatti loro i professori sono tutti i manifesti le donne tutte gli uomini tutti i porci e via discorrendo allora lo dico perché diciamo vorrei condividere con voi che questa roba qua non è proprio vera seppure a noi sembra vera e a volte ognuno di noi alimenta questa falsità cioè siamo grandi autori di cazzate mettiamola così allora il mio primo punto è è possibile liberarci dalle tentazioni di contribuire alle cazzate mettiamola così cioè mi pare che oggi gli interventi ma da stamattina ma anche in altri cioè possiamo dire che non è vero che su questa terra ognuno pensa per sé che se ti va bene l'altro ti frega che da soli è meglio che a volte ognuno per sé è Dio per tutti cioè vogliamo dire che questo è un grande filo rosso che non è vero ma che ognuno di noi ogni tanto partecipa a farlo sembrare vero? allora vorrei proporre una cosa l'ho chiamata la carta di Pievetorina ed è la seconda parolaccia mi scuso per la salvaguardia del culo l'ho chiamata dove l'obiettivo della carta di Pievetorina è come possiamo fare un esercizio sociale diffuso insieme e personale per evitare che qualcuno ci prenda per il culo o ci prendiamo per il culo da soli allora questo è un punto delicatissimo se volete la la dico in maniera più nobile ne sarebbe contenta mia nonna che mi ha educato a non dire le parolacce cioè se per caso da Pievetorina non posso partire un cantiere per costruire la carta della fiducia dove dagli imprenditori ai consulenti ai sindacalisti ai funamboli dagli scienziati ai sociologi di campagna dai lavoratori e dai lavoratrici cominciano a ragionare se siamo interessati o no ad aprire un grande cantiere che a posto della paura comincia a metter su delle infrastrutture per la fiducia e io credo che questo sia il più grande esercizio sociale che io vorrei fare non solo per me ma anche per i miei figli allestire una condizione per cui i miei figli non si sentono stranieri in casa ma anche figli di altri anche distanti anche sconosciuti possono sentirsi a casa e in mani affidabili cioè degne di fiducia se stamattina io dovessi mettere un cartello a quello che stiamo facendo è mani affidabili secondo punto allora che cosa è vero se quella roba lì non è vera non è che possiamo lasciare il campo vuoto perché altre fregnacce abiterebbero il campo vuoto allora la parola che vorrei consegnarvi è alternativi con la lignetta in mezzo cioè potremmo verificare se per caso il fatto che nasciamo da altri il fatto che viviamo con altri e il fatto che abbiamo responsabilità reciproca possono essere tre chiavi di lettura che ci aiutano a capire un po' di più e che forse stanno anche dietro questo senso di intrapresa economica sociale culturale etica morale di cui stamattina siamo protagonisti lo dico perché ci sono due aziende due imprenditori però lasciatemelo dire anche due famiglie un connettore creativo che però è un'altra famiglia di connettori creativi che hanno un po' articolato questo spazio che è un incontro di singoli di aziende di imprenditori ma è anche però un incontro di famiglie ad esempio mia moglie si è incazzata che anche il sabato sono uscito da casa ma fa parte dell'approfondimento che con Andrea dovremmo fare ok lo dico perché a me ha fatto sapete arrivano mail materiali ne leggo uno ogni quattro è arrivato da box mark il materiale per oggi e ho cominciato a leggere c'era una riga celeste e una riga nera e se tu leggevi non capivi niente ma De Minicis stavolta esagerato perché non si capisce nemmeno quello che si legge eppure erano Times New Roman o roba di lì codice alfabetico occidentale dopo tanti anni in scuola la capacità di leggere di comprendere potevo averla il punto è che era un testo ma era costruito con una logica diversa tu vedevi cose note ma per comprendere il significato di quel testo avevi necessità di cambiare prospettiva e logica erano due testi scritti in maniera alternata dovevi leggere insieme le righe nere e poi le righe blu perché se le leggevi in fila come eri abituato col cavolo che capivi e guardate che sentirsi scemi di fronte a un testo alfa numerico è stato un segno di quell'umiltà importante dico mi sembrava di capire tutto porca Eva c'è sempre qualcuno che ti capisce amadosca zozza allora lo dico perché forse è una metafora con cui leggere questo tempo stiamo vedendo tante cose che ci sembrano uguali a quelle di sempre in realtà se non cambiamo prospettiva non ci capiamo più niente questo vale anche per la tradizione rischiamo di avere una tradizione che facciamo tanti reduci e combattenti come era bello quando eravamo giovani quando i tedeschi compravano due scarpe destre e ti chiedevano due sinistre in modo che quando merloni quando 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 e cominciamo anche a fare lo stesso con tutto ciò che è nuovo siccome è nuovo è buono per definizione allora e utilizzo una cosa che sta avvenendo qua che mi ha colpito molto continuiamo a chiamare scuola quello che il gruppo ricostruisce utilizzando la categoria vecchia di scuola e non cogliamo invece una roba che a me ha colpito molto che è quella scuola contemporaneamente anche centro civico guardate che i nostri paesi hanno chiuso le scuole e è impossibile utilizzare le scuole per fare l'attività estiva perché la scuola è un conto il centro di aggregazione è un altro il centro anziani è un altro cioè a forza di specializzare abbiamo separato cioè a forza di specializzare non connettiamo non interagiamo e costruiamo delle gabbie d'oro incomunicanti quando ho visto il disegno degli architetti che ringrazio perché mi hanno consentito una riflessione sociale che non avevo mai capito grazie ancora che significa vedere una scuola che è centro civico in una zona come questa che oltre per la comunità ma non centro perché porterebbe lontano è anche una possibilità di infrastruttura per il nuovo turismo ad esempio per i prossimi campi scuola di ragazzi che per attività educativa verde sportiva quella che sarà ci avranno a Pieve Torina una infrastruttura che non è solo la scuola ma sarà uno spazio polifunzionale che se Pieve Torina saprà reinterpretare con una serie di infrastrutture attorno avrà fatto un esempio per le marche come passare da scuola centro civico a infrastruttura per nuovo turismo e un salto di qualità per le nostre città beh la scuola era sempre la scuola ma se io non avessi letto centro civico quindi significava che potevamo costruire una scuola abbiamo costruito un centro civico ma questa categoria del centro civico ci sta facendo vedere nuove funzioni nuove ricociture nuove connessioni dentro la città finisco su due punti che mi stanno particolarmente a cuore io tra i verbi recupererei uno che ha messo in campo Marco Bentivogli lui parlava di conciliare quindi c'è un connettere c'è un interagire c'è un costruire ma forse c'è un conciliare un riconciliare cioè non possiamo mettere solo insieme quello che va assieme ma anche quello che spesso è oggetto di conflitto ciò che è l'esito di spaccature ciò che è l'esito di separazioni anche conflittuali cioè non è che stiamo partendo da una tavola bianca in cui riconnettiamo quello che ci pare ci sono le contraddizioni ci sono le disuguaglianze ci sono le ingiustizie allora questo tema del riconciliare ad esempio riaprire un dialogo tra vittime carnefici tra sfruttatori e sfruttati tra giusti e ingiusti credo che sia una vocazione che questo allora immagino che valga la pena fare nostra una frase che la figlia di Aldo Moro ripete continuamente che alcuni miei maestri rilanciano con continuità è quest'idea di pulire il futuro c'è un futuro da costruire assieme ma ogni ricostruzione è anche una costruzione però c'è anche di pensare un futuro pulito allora dice Aldo Moro anche nella necessità si può essere liberi e secondo me su C-Safir-Eschit è esattamente l'idea che dal tronco tagliato possono uscire rami nuovi e oggi mi sembra uno di questi rami nuovi grazie grazie Nassemigliano grazie a tutti davvero uno scrigno di cose bellissime che ci portiamo dietro speriamo che queste possano far crescere altre cose positive intorno a noi io vi congedo vi rimando ai vostri posti chiedendo una cosa una piccola chiedendo un impegno a Loreni di oltre che camminare avanti e indietro qui sull'erba una volta di venire e fare una sua camminata su un cavo mi prendo l'impegno mi prendo l'impegno organizziamo e facciamo una bella camminata grazie strappato grazie si si legato come un imbragato non allora non abusando della vostra pazienza siamo nei tempi allora a due a due non verremo alla meta ad uno ad uno ma a due a due se ci conosceremo a due a due noi ci conosceremo tutti noi ci ameremo tutti e i figli un giorno rideranno della leggenda nera dove un uomo lacrima in solitudine questa è una poesia di Paul et Loire che mi sembrava buona non è male per introdurre Tonino Dominici e Sandro Paradisi come dire come dire l'affinità come dire l'affinità la senti subito aspetta abbandonati mettetemi seduti sennò così equilibriamo un po' dottino come dire l'affinità la senti subito il tempo serve a godersela loro due inizio da qui è così oggi ci sono delle strane coppie diciamo pensate tutto questo tutto questo anche questa giornata nasce da una notte passata insieme in un albergo di Manhattan loro due io non c'ero salvo non so cosa sia successo fatto sta che prima guardando come Sandro aveva ordinato i suoi abiti le sue cose dentro la valigia poi da lì l'imponderabile non so cosa è successo ancora insomma fatto sta che è nato un amore fondamentale importantissimo non indaghiamo su quella notte però da lì in avanti se ci raccontate un po' quel che è successo ma nel profondo delle vostre cose io sopra qui c'è la barzaletta è troppo scuola non la posso continuare no abbiamo detto quella cosa lì no anche io bisogna che mi alzo in piedi perché sarò troppo compresso altrimenti dunque quella questa questa cosa va sotto la voce costruzione quindi iniziamo dalla costruzione abbiamo costruito un rapporto in fondo se eravamo non tanto casualmente ma per scelta andati a dormire insieme era perché avevamo un budget economico un pochino più ristretti quindi c'era da risparmiare sulle spese del viaggio e l'altro aspetto era perché eravamo tutti e due lì con l'obiettivo di incontrare il professor Deming Deming è stato il precursore della qualità colui che ha fatto nascere tutto il Toyota Production System in Giappone è un americano che subito dopo la guerra si è recato in Giappone per aiutarla a ricrescere quindi questa questa casualità in fondo era già il primo tassello per costruire da lì abbiamo cercato anche di costruire qualcosa che ci legasse un pochettino di più abbiamo fatto un percorso aziendale comune che ci ha portato poi a confrontarci molto spesso su diverse tematiche quindi il valore aggiunto di poter condividere certi argomenti con persone che la pensano come te è di sproni poi Tonino lo conoscete tutti è un vulcano si fa fatica a stagliere dietro dorme due ore per notte quindi è una è una roba e quindi anche attraverso la costruzione che inizia anche il percorso della nostra azienda quindi oggi mi piace poter dire che non abbiamo più prodotti da vendere quindi quello che chiedo ai miei collaboratori è di aiutarmi a trovare qualcosa che non sia il prodotto da vendere ai nostri clienti quindi pur avendo posizionato come avevamo visto prima il cliente al vertice della nostra organizzazione al tempo stesso abbiamo voluto renderla trasparente quindi la parte sottostante della nostra piramide è un vetro trasparente perché aprirci al territorio probabilmente ci aiuterà a trovare quei valori che oggi parzialmente abbiamo individuato da poter andare a vendere ai nostri clienti quindi in questo percorso ovviamente mette in primo piano le persone perché senza il contributo fattivo dalle persone non potremmo trovare quella leva differenziale con i nostri competitor quindi tutto il gran parlare che si fa in questo periodo non passa la settimana che non c'è un convegno su Industri 4.0 in realtà è tanto fumo negli occhi perché poi se pensiamo a una crescita come quella che c'è stata in Giappone subito dopo la guerra che ancora continua ad esserci è una crescita graduale nel senso che ci sono questi miglioramenti continui fatti passo passo nel tempo quello che va sotto il nome di Kaizen ma non è che volevo utilizzare questa parola per non essere frainteso quindi questo miglioramento va fatto con le persone è un miglioramento continuo senza sosto la ricerca continua del miglioramento quindi per riprendere un'altra parola è quella della connessione quindi questo entrare in sintonia con Tonino entrare in sintonia con le persone che stanno intorno a noi è la leva per andare avanti se non si fa un po' di casino oppure te lascio no 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 c'è tanto tempo gli brucio gli argomenti adesso prendi tempo quindi un altro valore aggiunto è proprio questo della connessione che potremmo offrire ai nostri clienti quello che va sotto il nome di catena della fornitura uso una parolaccia supply chain quello che vorremmo fare in futuro è quello di accorciare questa catena della fornitura quindi essere più vicini al nostro cliente e avere dei fornitori che ci stiano vicini quindi le scelte fatte di andare a trovare fornitori su locali perché questo rapporto di vicinanza possa tradursi in un miglioramento fattivo va in questa direzione il fatto che i nostri clienti possano vedere il nostro magazzino come il loro magazzino dà la possibilità a loro di abbreviare il tempo che impiegano per fare l'ordinativo del materiale e portarselo a casa quindi ecco riempire di valori ancora non molto tangibili da parte del cliente perché magari ancora non li sente propri ma essere per primi a presentarli per far sì che poi possiamo continuare ad essere scelti come loro fornitore l'altro aspetto è quello dell'interagire l'interagire è quello che è passato tra me e Tonino quando ci siamo inizialmente conosciuti quindi un cervello più un cervello qualche volta insomma fa un po' di più quindi il condividere un argomento lo arricchisce e l'interazione permette questa crescita l'interazione ovviamente va fatta non soltanto con le persone che sono chiamate a lavorare in azienda ma serve l'interazione con il territorio per far sì che l'azienda sia vincente quando parlo di territorio mi riferisco alla scuola e all'università senza questi fornitori che poi sono i fornitori del prodotto più importante che abbiamo in azienda difficilmente potremmo fare questo salto e non ha senso neanche parlare del 4.0 perché 4.0 così come viene presentato sembrerebbe un semplice investimento vado in banca prendo i soldi compro il macchinario 4.0 e sono a posto posso portare a casa lo sgravio fiscale immediato ma non è quella la leva che potrà permettere all'industria del nostro territorio di crescere è un percorso lento sicuramente il beneficio statale finirà a dicembre c'è una proroga che adesso è stata portata fino a luglio ma non è che in questi 7-10 mesi che sono rimasti da qui alla fine dell'intervento è pensabile che il nostro paese diventi 4.0 è soltanto l'inizio di questa nuova rivoluzione industriale che avrà dei tempi lunghi ma sicuramente ci porterà a dei cambiamenti molto importanti è detto tutto va benissimo bene vi vorrei dare un altro microfono vi vorrei dare un altro microfono no no ce l'ho non me ne basta datemi un po' di volume perché mi sento moscio cioè ha detto tutto Sandro per cui grazie Sandro allora io non credo buongiorno a tutti innanzitutto buongiorno buongiorno facciamo il sorriso perché oggi ci sta andando alla grande cioè ci sta andando alla grande adesso fino adesso siamo arrivati al massimo al culmine no abbiamo sentito quelli che ci hanno preceduto per cui ci hanno dato dei no degli idee famose fantastiche adesso andiamo un po' più nelle cazze stiamo cazzeggiando no per cui cerchiamo di sdrammatizzare vi prepariamo per la per il pranzo quindi quindi allora io prima di tutto devo dirvi innanzitutto che sono felice strafelice di essere qui no grazie grazie perché siete belli belli numerosi fantastici vivaci avete fatto un grande sacrificio quello di venire a Pievetorina pur di andare al mare ma va sicuro oggi al mare se stava da bestia quindi quindi avete fatto benissimo venire qui perché qui c'aveva un'aria frizzantina che ci arriva dai Sibillini c'avevamo dopo il catering là dove andiamo no dove andremo a fare il catering che andremo a vedere pure la scuola che stanno facendo le fondamenta stanno sono passati già a questa fase qui quindi costruire quindi è bellissimo è una giornata meravigliosa ci caricare tanto io sono meravigliato perché non credevo che da una camera d'albergo nascesse una cosa del genere insomma cioè qui è peggio non so chi è che è stato da una camera d'albergo con una semplice notte in una camera d'albergo più notti però la prima ci avete preso cura poteva nascere una cosa del genere in verità io devo fare un pubblico ringraziamento a Massimo Zucchero alzati in piedi Massimo Zucchero è l'artefice è colui che ci ha messo in piedi e ci ha messo in mezzo cioè la camera lui ci ha messo la camera Ruffiano ha fatto Ruffiano perché è la verità vera sì oltre a quella che ha detto Sandro che le nostre amministratrici ci hanno il braccetto corto noi la prima volta andavamo in America quindi il viaggio costava i soldini quindi allora Massimo ha detto voi altri me sta bene se dormite insieme io vabbè io dite il conosce Sandro Paradisi no ma il conoscerò quindi quando ho visto la valigia di Sandro Paradisi dice questo è l'uomo mio questo è l'uomo mio perché in effetti io già il viaggio era finito per me avevo incontrato uno che fa la valigia in una maniera tutta ben messa eccetera dopo si è scoperto che l'ha fatta la moglie però oh intanto il merito se l'è preso lui quindi bene allora tutte le connessioni quindi a partire dalla valigia cioè tutte quelle informazioni tutte quelle interazioni tutte quelle idee che Sandro mi ha dato semplicemente con lo spunto della valigia poi le abbiamo coltivate insieme perché è questo è questo che a parte la valigia è stata una prima una prima cosa però con Sandro poi abbiamo fatto molte tante altre attività perché la cosa la cosa che apprezzo di Sandro è quella che nella sua è un grande nella sua umiltà cioè lui lui ha quasi paura di dirti quello che sa ma lui è bravo veramente però ha timore di dirtele perché pensa lui che ti fa apparire un po' ignorante capito invece io e lui è bravo su questo perché non c'è peggior nemico di uno che sa da odiare uno che sa e dall'altro ti fa capire che sei un coglione quindi allora io di questo lo apprezzo perché io prendo tutto da lui ascolto lui parla poco io invece parlo tanto e manco ascolto però a lui a lui l'ascolto e tutto quello che poi dopo c'è una grande bella cosa è nata perché le idee sono uguali io c'ho un sacco diciamo un po' le trasmetto a lui dopo io non sono capace di farle e invece lui le fa allora quando lui le ha fatte io dico oh come hai fatto a farle e lui mi spiega come le fai quindi c'è questa grossa interazione che abbiamo poi portato anche nelle nostre aziende e abbiamo in un certo periodo anche provato no provato abbiamo fatto anche dei incontri insieme ai nostri collaboratori per proprio formare quello che ci siamo formati tra me e lui l'abbiamo trasferito ai nostri collaboratori e poi è nata amicizie insieme è nata l'Accademia Tacchinella è nata l'amore per l'Aerly è nata l'amore per il lavoro è nato l'amore per i viaggi è nato l'amore dalle Juve perché non è l'amore della Juve è nata l'amore e l'amicizia forte con i suoi amici e lui con i nostri amici quindi c'è stato uno scambio continuo e c'è uno scambio con le famiglie mia moglie è diventata amica di Alessandra i figli vabbè Alessandra la salutiamo non siamo in streaming quindi quindi Alessandra la salutiamo l'abbracciamo perché perché quando Colombi Massimiliano ha parlato di famiglie oggi ci manca la moglie di Sandro quindi la salutiamo perché è al lavoro non è che ci manca perché poverina ci manca perché deve lavorare perché per uno che non fatica e sta a spasso ci vuole un altro che la ora no poi io poi finisco nel no no finisco perché voglio fare un pubblico ringraziamento dicendo ai nostri collaboratori a quelli di Alessandra Paradisi e quelli della Box Market perché è grazie a loro che io e Sandro siamo stati siamo stati anche in America e grazie a loro che oggi noi siamo qui e grazie a loro che insieme sogniamo un futuro migliore e grazie a loro che con il loro lavoro con la loro professionalità con la loro passione che mettono nel fare bene alle cose e grazie a loro che ci come dire che ci daranno sicuramente un futuro sereno per tutti e ne abbiamo molto bisogno quindi io vorrei ribadire ancora una volta che grazie a loro per quello che stanno facendo e in più chiederei uno sforzo in più che è quello di darci continuare a darci più idee perché noi io personalmente io parlo per me ma penso che sia anche per Sandro troppo spesso ci sentiamo un po' soli e ci sentiamo soli nel prendere le decisioni qualcuno prima ha parlato delle difficoltà una volta era più facile fare impresa una volta il capo prendeva la decisione ed era sicuro al 100% che l'aveva presa giusta oggi per ogni decisione che prendiamo c'è una percentuale di errore pari al io dico al 100% cioè su 10 cioè su 10 decisioni che prendiamo quasi sicuramente sbagliamo al 50 il 60% ne prendiamo 5 o 6 sbagliate una volta non era così perché il mercato perché la competizione perché la complessità del lavoro quotidiano non ti permette più mentre non ti permette più di sbagliare al momento stesso non hai strumenti per decidere quindi non siamo più soli a decidere troppo spesso siamo soli a decidere e qui chi ti può aiutare non ti può aiutare più sì il consulente ti aiuta ma ti aiuta quelli che tutti i giorni sono lì nel genba dicono i giapponesi qualcosa avevamo imparato perché a forza di gira il mondo qualche parola il genba sarebbe il luogo dove si produce valore valore oggi si parla sempre più non vendere prodotti ma vendere idee vendere servizi vendere valore si parla di produrre valore di creare ricchezza di vendere attraverso la come dire value proposition in inglese va bene proposta di valore la proposta di valore è quando noi togliamo i mal di pancia ai nostri clienti e per togliere il mal di pancia dei nostri clienti noi dobbiamo ascoltarli prima di tutto relazionarci connetterci interagire capire quali sono le loro necessità e poi costruire insieme un prodotto forse un po' meno noi non siamo più aziende dei prodotti Sandro ha detto non vendiamo più i prodotti vendiamo servizi quali servizi però fino a ieri i servizi erano che ne so io ho una qualità migliore adesso vai a proporre con la qualità il servizio della qualità ma qualità qualità la danno tutti no te facciamo il il magazzino che vuol dire te facciamo il magazzino qualcuno vuole il consignment stock qualcuno vuole le vuole portare l'acqua con le orecchie qualcuno vuole la logistica qualcuno vuole come facciamo lo facciamo solo se c'è grande grande unità nelle aziende e fuori ed ecco perché su Cisa Vireshilt ecco perché noi da soli nelle aziende non faremo niente ieri incontrando il sindaco di Corinaldo con degli amici i Marcello e i Friens che sono anzi vi pregherei di alzarvi perché sono Marcello e i Friens alzatevi per favore questi sono gli amici storici alzatevi sono gli amici storici della della Boxmark e della Sandra Paradisi perché questa è la notizia che da oggi ma ormai forse anche prima anche Marcello e in Friens oltre a essere amico di Boxmark è anche amico della Paradisi e quindi salutiamo questa unione qui c'è un'altra unione dicevo al sindaco di Corinaldo dicevo che noi siamo soli se non abbiamo un territorio amico se non abbiamo una come dire umumus intorno una rete di servizi di efficienza di allora per avere questa rete bisogna dare amore a questa rete perché se non diamo amore ma vero amore non parliamo più di simpatia dobbiamo amare il nostro territorio amare le nostre persone amare quelli che stanno vicino a noi perché un domani poi ci daranno perché è vero che bisogna amare senza condizioni l'empatia è quello non amare senza senza ricevere poi nel tempo si riceve 10 minuti finito siamo nei tempi ho scordato niente no no ma cos'è questa ha qualche domanda? no secondo me c'è una cosa che è arrivata poco fa Alberto Barbarini che è il presidente del Rotary di La Spezia eccolo bene questo è il frutto è il frutto della connessione è il frutto della connessione è il frutto dell'incontro sta fermo lì bene sta fermo lì perché professore prego la parola ce l'abbiamo ce l'abbiamo innanzitutto è qui salta tutto innanzitutto io vorrei ringraziare tutti per questa giornata stupenda e devo dire che sentire queste cose questa forza eccetera fa bene fa bene all'Italia e crediamo fa bene anche il cuore sono cardiolo è l'entusiasmo allora un momento ma cosa ci fanno due spezzini due rotariani spezzini qui no che tra l'altro hanno voluto esagerare portando il contributo del nostro Rotary va bene allora momento allora in effetti connettere è molto importante e qual è l'anello di connessione che ha unito le marche con la spezia un grande marchigiano alzati Marcello un grande marchigiano che vive a Milano ma che ci ha fatto conoscere amare le marche dei personaggi così importanti quali quelli che sono accanto a me e quindi direi è stata un'operazione incredibile ora Fabrizio dirà anche come sia verificata perché non è solo il Rotary di Spezia poventieri tanto scusate questa cosa tennistica che non è d'altra parte abbiamo dei donor sottostanti dobbiamo dare conto di averlo dato quindi fate le foto allora intanto dalla connessione intanto io volevo dire che a volte vale di più una combinata combinazione fortunata combinazione rispetto all'impegno che peraltro c'è stato perché noi una buona parte di questi soldi sono circa metà vengono da dontano vengono da Dubai da una società con la quale il nostro Rotary ha collaborato negli anni abbiamo fatto bellissime cose loro si occupano di potabilizzazione di acqua abbiamo fatto quattro pozzi in Madagascar per i salesiani abbiamo fatto abbiamo dato da bere a 40.000 bambini delle scuole in Thailandia del Cane State che è una zona di disperati eccetera quando è venuto il terremoto praticamente dopo dieci giorni del terremoto del primo terremoto questi ci hanno telefonato abbiamo fatto una colletta poi i nostri manager l'hanno raddoppiato vi mandiamo un po' di soldi qual era l'impegno l'impegno era purché voi lo raddoppiate come sempre abbiamo fatto in tutte le mission che abbiamo fatto con loro e purché e questo era il difficile purché sia un progetto ben specifico non deve essere a pioggia a questo punto no a questo punto no primo io faccio l'ingegnere a casa mia e un po' per trascorsi un po' per la sanità di servizio ho la delega sulla protezione civile e l'emergenza e quindi ho mandato una decina di squadre di colleghi giovani a fare le agibilità qui a Rieti in zona e tra l'altro lo sapete che poi le agibilità sono state ripetute perché c'è stata la replica che ha annullato quelle precedenti quindi io avevo tante conoscenze protezione civile l'IPE eccetera e ho detto mi dite un progetto bello pronto dove possiamo mettere di seguito no non c'è niente erano sopraffatti tutti dall'emergenza per cui io sono tornato al direttivo Alberto era incoming president e gli ho detto Alberto guarda qui non riusciamo a farlo non vorrei doverli restituire ci abbiamo messo un minuto ha telefonato a questa macchina da guerra e da lì tutto è venuto fuori come niente quindi questa è la storia di questo certo l'anello è lui poi abbiamo fatto anche un concerto insomma ecco questa è la storia di questa piccola ti vuole come paziente perché spinge sul cuore adesso va bene grazie adesso siamo via ok ciao vabbè questo lo mettiamo grazie e poi un altro applauso perché non è vero che i liguri sembra che abbiano le braccette corti o no abbiamo sfatato un'altra cosa no che è vero bene grazie grazie di tutto allora siamo siamo secondo secondo io ho finito vorrei dire che chi chi quei pochi amici che se ne dovranno andare prima della della colazione e non sanno quello che si è perdono e non sanno cosa si è perdono quindi sono prodotti di altissima qualità del territorio trattati da Massimo Biagiali scelti sul territorio da un amico che è anche assessore Giancarlo fate un applauso Giancarlo eccolo qua eccolo qua che ci ha dato una mano quindi noi ringraziamo sia ovviamente Giancarlo che l'amministrazione e il sindaco Alessandro che è un grande amico e diamo praticamente appuntamento fra qualche minuto esatto c'è una cartella per chi se ne va con dentro vabbè i due bilanci che leggerete la sera prima di andare a letto è una stampa una stampa storica di Pievetorina quando Pievetorina era era intatta era su era su vuoi dire qualcosa lui? Sandro vuoi dire qualcosa? no ha già detto io chiudo con questa frase che abbiamo citato già altre volte scusate non voglio far citazionista tutti gli effetti però insomma è una cosa che abbiamo già detto altre volte che mi piace tirarla fuori ancora è uno straccio di una canzone che dice anche gli angeli capita a volte sai si sporcano ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fratto brutto quello che è successo anche oggi ah io volevo fare una battuta ultima scusa Giulia se ti ho fregato vuoi fare l'ultima battuta perché mi è venuta in mente una cosa no o sta che sto microfono e no c'è due minuti no c'è due minuti no no a luna dove abbiamo finito a luna sì no perché mi è venuta in mente una cosa bella per essere precisi non è che lo fa perché vuole parlare perché vuole essere preciso all'ora se stacca no perché ho partecipato ad un convegno a Tolentino l'altro giorno sì nel cui l'amico nostro lì quel denomisma dai aiutami come si chiama dai mercatini mercatini è il nome un po' brutto è un po' chi ne ha fuo capirlo vabbè mercatini bravo aveva mercatini aveva coniato ha coniato vai come io sono già esponese ha coniato dal terremoto ha coniato ha detto noi dobbiamo come dire cambiare questi territori in terre in moto allora a seguito di questa da terremoto passare a terre in moto io oggi dico che questo convegno questa bella giornata ha fatto sì che abbiamo messo in moto i cervelli le teste abbiamo messo in moto la nostra passione quindi è il cuore quindi terre cuore come si può dire non lo so è difficile aveva fatto un terremoto del cuore terremoto del cuore punto è lui grazie a tutti io ho fatto scusate per qualche no ce l'ho qua grazie a tutti si esce si esce dalla piazzetta e poi si gira a sinistra 100 metri e siamo davanti al parco del paese dove sorge fra l'altro anche la scuola per finire per finire per finire dammi il microfono per finire no scusa Giulia è per te scusa eh no fermi allora noi noi abbiamo ringraziato tutti meno che l'autore di tutto questo che è lui grande io voglio un grande applauso sì sì un applauso a Giuliano che ce la fai? Giuliano sembra sembra una brava persona però io volevo farvi notare la straordinaria somiglianza con un famoso cattivo della Pixar e il perfido a parte il colore rosa e il profumo di fragola c'è una notevole somiglianza quindi l'aria buona ma grazie Giuliano e grazie a tutta la squadra di MP Cristina in particolare per quanto riguarda Box Marche grazie a tutti grazie a tutti grazie a Cristiano grazie a Cristiano grazie a Cristina grazie a Lucia grazie a Luca a Flaviana e io faccio i miei adesso ciao grazie grazie a tutti